Allora amici siete già stasera per capire un po' come nasce tutto e credo che sia anche giusto darvi un'indicazione in questo senso perché con la massima serenità, guardate noi stasera siamo qua perché io non ho problemi di sorta, sono tutte minchiate, scusate un termine tecnico, quelle che mi attribuiscono e stasera qualche cosa vi facciamo vedere in modo tale che abbiate anche voi la possibilità di prendere tutte le vostre posizioni con la massima serenità. Sono accuse non solo false ma addirittura Zeppellini come vi mostrerò prima commette reati contro di me e poi nelle sue esternazioni folli seguite chiaramente a ruota da una serie di altri soggetti e chiaramente mi produce anche le prove. Vi spiegherò bene anche tutta la questione video rai e quant'altro perché su quello vi assicuro c'è, ci sarà veramente da gustarci un momento clamoroso. Peraltro ripeto io lo ringrazio perché poi lui fornisce sempre le prove dei crimini che commette, non ho neanche troppo bisogno di lavorare neanche i PM di Roma che lui tanto odia, sapete perché li odia così tanto? Perché le loro denunce essendo minchiate catastrofiche, totali, assolute vanno sempre in conto immancabilmente a richieste di archiviazioni e ad archiviazioni per ovvie ragioni perché sono totalmente infondate. E le mie invece vanno avanti, chissà come mai, perché sono raccomandata dai PM o che corrompe i PM o come dice Edoardo Conti, uno dei bracci armati di Bugamelli, Bugalalla, Bornolalla, come cazzo si chiama, Lamaglie.com e no, non è quello il problema, non faccio i pompini ai PM, caro Conti, come mi hai più volte attribuito e peraltro sei stato denunciato anche tu così stasera non ti senti tanto solo, insomma, che probabilmente si sente un po' solo. Io ho un po' questa impressione che sei uno che un po' si sente solo, sotto tanti fili, insomma, mettiamola così. Bene, sappi che sei stato denunciato anche tu, quindi in dibattimento non sarai da solo, vai tranquillo. Ebbene no, non sono premiata perché faccio i pompini ai PM, non sono premiata perché li manipolo e li corrompo, sono premiata perché le mie accuse sono fondate, fondatissime, al punto che vanno avanti come tutti i PM del mondo. I procuratori di Roma sono persone serissime, mi dispiace che abbiano subito un attacco becero e assoluto. Non solo da questi soggetti, quindi Zeppellini, Bugamelli e compagnia Cantando, ma anche da due avvocati che peraltro, notizia proprio così, fresca fresca, anche loro si sono aggiunti alla lunga lista dei persecutori. E non solo, perché con quello che hanno combinato con la mail farlocca sulla RAI, sarà un problema molto più grave sotto questo profilo, il concorso in atti persecutori e in altri reati. Ma questo piano piano adesso non sciogliamo tutto. Però ragazzi, il problema è questo, che le loro accuse sono talmente farmeticanti che inevitabilmente vanno in contraarchiviazione, ma non perché io sia protetta dai PM. Vi assicuro che sono un cittadino come tutti gli altri, come tutti gli altri devo provare quello che denuncio, né più né meno. Dall'altra parte, essendoci un soggetto delirante, e non lo sto dicendo io, c'è stato uno psichiatra che ha esaminato Zeppellini, cominciamo da qua. Mettiamo un punto così, spieghiamo agli amici che ci seguono, che veramente sono tantissimi, poi spieghiamo anche perché questi due avvocati gli vanno dietro. O meglio, io non lo so perché gli vanno dietro questi due. Questa forse è una domanda a cui dovreste fare a loro. Posso dirti che nell'andare dietro a questi due si sono attirati una marea di guai. Brutti, brutti, perché peraltro anche questi due geni, Guglielmelli e Marazzita, che forse si è dimenticato che non sta gestendo le cause farlock di forum, probabilmente ha avuto un attimo di confusione sul punto. Peraltro, abbiamo, produco stasera, vi faccio vedere la chat col figlio di Marazzita, Giuseppe, mi dispiace Giuseppe, non avercela con me, però io ti ho invitato, dopo che mi hai contattato tu segnalandomi che tuo padre era impazzito e che non sapevi più come fare a gestirlo, ebbene, non sono io che ho contattato Giuseppe, perché a me di quello che dice Nino Marazzita, con tutta la simpatia per un vecchio signore, probabilmente non più lucidissimo, non me ne potrebbe fregare di meno neanche al limite dell'impegno, ok? Proprio non me ne frega niente di quello che dice Marazzita o di quanto blatera, non ha capito neanche che tipo di laurea ho, quindi immaginatevi quanto mi possa preoccupare quello che dice questo, diciamo, vecchino, ok? Che non è neanche più avvocato da diversi anni, perché non è neanche più iscritto all'ordine degli avvocati, quindi non so che cosa possa pensare di rappresentare, ma è stato il figlio a segnalarmi il primo video delirante dove c'era anche Nino Marazzita. Io ho la chat, che chiaramente è già stata prodotta in una ulteriore denuncia già depositata, dove anche il padre di Giuseppe, il caro Nino, è denunciato per diffamazione aggravata e poi adesso è denunciato anche per concorso, in tutta una serie di altri reati, perché, ripeto, ognuno poi è responsabile delle sue azioni. Se è in grado di collegarsi, per dire puttanate, durante i video con la Bugamelli, evidentemente è anche in grado di capire che ha partecipato a un concorso in sostituzione di persona, perché la mail con cui mi segnalano su YouTube i video, come, diciamo, un copyright Rai, è stata prodotta da Bugamelli, scusate, da Zeppellino, Zeppellini che ha prodotto una mail falsa, contattando YouTube, perché ovviamente il mio canale stava crescendo velocemente, e quindi evidentemente lui era preoccupato, quindi che ha fatto? Ha creato una mail falsa. La vogliamo far vedere intanto, così partiamo subito col piede giusto? Ha creato una mail falsa, Gio, fagliela vedere. Che si chiama? Eccoci qui. Eccola qua, cominciamo anche in ordine. Che si chiamava online.dmca.id.gmail.com. Come va questa questione, in buona sostanza? Poi torniamo sul punto iniziale. Questa mail qui, che in realtà è di Zeppellini, e come lo so, perché hanno fatto un casino pubblicando praticamente la mail che ho mandato io, questa qua che vedete, ragion per cui ho scoperto che effettivamente si trattava di loro. A quel punto, quindi, che non era la Rai che mi aveva segnalato, attenzione, ma era quel super mega psichiatrico psicotico di Zeppellini, che nella sua sessione persecutoria per me, e vi mostreremo dei messaggi di alcune madri che si sono per fortuna risvegliate dalla situazione, sono riuscite a sottrarsi all'influenza malevola e alle minacce di questo squilibrato, che si nasconde come un topo di fogna in America, probabilmente non da solo, ebbene, lui ha creato questa mail online.dmcatd.gmail.com Che cosa succede? Questa mail scrive a YouTube e mi segnala tre video, tre, come vedete, tre video, dove c'erano delle mie interviste rilasciate a ore 14 e a vita in diretta, ok? Per carità, YouTube contatta me, per il tramite io dei collaboratori che mi aiutano sulla parte online, e i miei collaboratori, con assoluta tranquillità, mi dico, guarda Ro, c'è un problema su quei tre video, è meglio toglierli, tanto per te non è un problema creare contenuti, se la RAI ci segnala quei video, ci sembra molto strano, perché loro lavorano in questo settore e non era mai successa una cosa del genere, ci sembra molto strano, però vabbè, non creiamo problemi, tanto per tre video non ci cambia niente, benissimo. A quel punto noi togliamo i video, tre, non trecento, tremila, tre, peraltro in un momento in cui ancora il mio canale non monetizzava, perché ha iniziato a monetizzare il primo di gennaio, questo ve lo dico con la massima tranquillità, del resto, insomma, più o meno guadagnano tutti online, ho detto, vabbè, ci provo pure io, ma dal primo di gennaio, quindi su quei video, peraltro, io non ho preso un euro a prescindere, ma preso, comunque... Scusami Roberta, scusami, perché sennò poi vengono a farti le pulci su questo passaggio, invece io lo voglio chiedere immediatamente. Certo. Il canale lo gestivo io insieme a Giovanni, quindi monetizzava con i contenuti di Viaggio nel Movente, poi noi lo abbiamo lasciato, eh no, perché era online, quindi monetizzavamo noi, noi poi lo abbiamo ridato a Roberta, ci siamo fatti il nostro canale, quindi lei ha ricominciato dal primo di gennaio, fino al 31 di dicembre, quando gestivo io, noi caricavamo soltanto le puntate di Viaggio nel Movente. E poi i miei collaboratori che inseravamo la parte di collaborazione avevano messo qualche video della Rai, per vedere che era la risposta del canale, nessuno di più, ma in quel momento, ripeto, era una situazione pacifica, cioè noi pensavamo fosse stata la Rai a contattare YouTube, perché ovviamente YouTube ci ha contattato, pensando che fosse stata la Rai a segnalare, ok? Quindi noi facciamo la procedura, mi arriva, sta a me dicendo, ma che strano che la Rai utilizzi un account Gmail, ho detto io, i miei collaboratori hanno detto, ma sarà un'agenzia che forse sarà delegata dalla Rai per fare questa attività. Per cui noi, con l'assoluta tranquillità e buona fede, ma per tre video, ma che me frega, cioè io posso fare 300 contenuti al giorno se voglio, quindi è l'ultimo dei miei problemi. Per cui cancelliamo questi tre video. Ovviamente la segnalazione di risposta arriva a online.dmcatd.gmail.com. No, in quel momento, tranquillo come delle pastole, ma mi imposa assoluta serenità. Finché, qualche giorno dopo, comincia la tiritela sul profilo MTM, Roberta Bruzzone, ruba i video alla Rai, che poi voglio dire, se sto io in quei video, cosa cazzo dovrei rubare a Zebellini? Dovresti un po', fare un po' un attimo i conti con te, soprattutto dopo che hai preso la terapia, perché la devi prendere sta terapia, perché non stai bene, questo è evidente. Morale, mi trovo sta roba e trovo una lettera, una parziale, poi quello che abbiamo potuto salvare, salvare, puoi immaginarti la Rai quando riceve sta roba, cioè se la cartigenica forse manca, in quel momento potrebbe essere utile una lettera di quel tipo, per essere chiari, per il valore che può avere, ma la cosa folle è che trovo spiattellata proprio la mail online .dmcatd.com A quel punto chiamo i miei collaboratori e dico, scusate ma sentite un attimo YouTube, perché qua c'è qualcosa che non torna, come fanno questi a avere una comunicazione che dovrebbe essere tra me, Rai e YouTube? Morale, scopriamo che in realtà la Rai non ha mai fatto un passo, non ha mai mandato nessuna segnalazione, non esiste niente ed era Zeppellini che si è spacciato, quindi ha fatto un ulteriore reato che è sostituzione di persona, si è spacciato per un'agenzia che deteneva, abbiamo tutta la documentazione perché YouTube ci ha dato tutto, che deteneva i diritti della Rai, ovviamente mentendo, ma questo credo che sia un po' l'attività quotidiana per questo signore, soprattutto per quanto mi riguarda, e quindi aveva spacciato se stesso tramite questa ennesima mail falsa, come qualcuno che poteva segnalare i video in quanto detentore dei diritti, quindi Rai, per poi simulare una campagna difamatoria, persecutoria contro di me, basata peraltro su un reato, commesso da lui in concorso con gli avvocati, perché ce lo dovrà spiegare, poi Marazzita e Guglielmelli ce lo dovranno dire davanti a un magistrato, come hanno fatto a credere a una roba del genere, se non erano in concorso con Zeppellini, perché è talmente una roba che ci arriva anche un bambino di 5 anni, che non poteva essere, diciamo dopo che, come fai ad avere in mano una comunicazione del genere, se non hai commesso un reato di sostituzione di persona, ovviamente la Rai ci ha detto che non ha mai segnalato i miei video, e mai si sognerebbe di farlo, e quindi anche qui, l'ennesima campagna persecutoria basata su cosa? Su un reato, perché si è sostituito, si è spacciato, come al solito, perché tra fake e contro fake, questo non sa più manco quante identità false c'ha, con l'obiettivo poi di armare un casino contro di me, cercando di far credere che io sottraessi video alla Rai, soldi alla Rai, perché? Perché da quando io l'ho smascherato, perché sono stata io ad attribuire alla sua faccia quella che avete visto sul servizio delle Iene, quella che era sul documento falso, che si vede qua, no? John Peschiera, che in realtà era sul documento falso a nome di Henry Iovine, fornito alla Bernardini de Pace, per fortuna una foto ce l'avevamo, io questo signore l'avevo visto per sei mesi, quindi che quella faccia fosse la sua, ne ero certa, e quindi, praticamente, da quel momento, arrivando a individuare la sua reale identità, cioè Mirko Zeppellin, truffatore seriale, denunciato e processato in America, ritenuto incapace di intendere e di volere, messo in carcere per due anni, poi in manicomio criminale, ne esce il 2018 con una diagnosi psichiatrica di disturbo delirante, quindi chi va dietro al suo soggetto, forse qualche domanda anche sulla sua sanità mentale dovrebbe farsela, disturbo delirante, mania di persecuzione, megalomania, e chiaramente una personalità gravemente narcisistica. Scusami, Roberta, Chiara, questo mi odia per questo, perché io gli ho smontato il giochino, dopo che era uscito dal carcere, dal manicomio criminale in America, è tutto disponibile, ragazzi, chi di voi vuole documenti, ci può contattare, tanto è tutto online, non stiamo dicendo nulla, diciamo, io non, Chiara, Chiara G, io non rispondo, Ora rispondiamo adesso, questa storia, perché io non ho mai commesso stalking, anzi, se c'è qualcuno che mi stalkerizza, ormai da un anno e mezzo, ed è stata denunciata ben poco volte, è proprio Francesca Bugamelli, quindi se mai è lei che dovresti chiedere questa cosa, e sul punto, ti faccio sentire, cara Chiara G, un audio della signora Bugamelli, ce l'ho qua, ce l'ho qua, su Telegram, dove, su una chat che si chiama i drughidi di Bugamelli, sei i drughidi erano, è presente Arancia Meccanica, dove lei, con la sua viva voce, invita tutti a diffamarmi, ovunque, l'anno scorso tra l'altro ragazzi, e questo è già legato a una delle denunce, quindi ve lo posso far vedere, tanto ce l'abbiamo tranquillamente, perché una di queste persone che ha ricevuto questo invita a diffamarmi, ce l'ha mandato, viva qua dentro, ma sapete, è veramente difficile stare dietro a tutto, comunque volevo chiedervi una cortesia, sta davvero succedendo il bordello, e se ce la facciamo da internet, riusciamo veramente a buttare giù, sta stronza, quindi io vi chiederei la cortesia, so che è una rottura di palle, ma davvero per combattere il cyberbullismo, questo è altro, quindi vi rompo le palle, condividete questi screen ovunque, ovunque, cioè se avete community, gruppi, fatelo sapere al mondo, fate incazzare il mondo, perché adesso noi dal basso, rompiamo i coglioni, i boomer di merda, ignoranti. eccoci qua, eccola qua, quella che è la signorina, la santarella, quella che piangi a secco nei video, che dice di essere perseguitata, che dice che non torna in Italia, perché ha paura, poi torniamo anche sull'ipotesi di essere questo, delle persone, che vi assicuro, che noi di questa signora, non sapremo proprio cosa farci, scusami Roberta, io ti devo interrompere, quindi il sequestrare Bugamelli, credo che sia una delle robe più deliranti, che io abbia mai visto nella vita, peraltro il gruppo, fermati su un fattore DM Team, con il povero, lei ha fidanzato di questa ragazza, di questa Bugamelli, alias Bugalala, alias Lamalia, andate su Google, fate le vostre ricerche, che vi troverete, questo povero ragazzo, si è trovato in una marea di problemi, anche lui è accusato di concorso, in sequestro di persone, che io credo che lui abbia ancora adesso, stia ancora festeggiando, per la fine della relazione, con questa ragazza, la testa non è più, no? E semplicemente, nel gruppo, in maniera molto gentile e cortese, siccome i ragazzi chiedevano, alcune persone chiedevano, ma tu riconosci il luogo, da cui lei sta, visto che lui frequentava l'abitazione, della Bugamelli, ma tu riconosci il posto, dove sta facendo le live, per capire se era ancora in America, o se era tornata in Italia, ma come curiosità, perché a noi non ce ne frega niente, che per me questa può andare, ripeto, a vendere cocchi alle Bahamas, cioè, per me non c'è problema, se fa il processo in contumacia qui, non c'è nessun problema, l'immobile ce l'ha, andremo a sequestrare quello, per quanto riguarda i danni, poi le condanne, tanto in Italia fanno il loro corso, se può un giorno mettere a piedi l'Italia, ci facciamo un sacco di risate, il problema di Bugamelli, non è il non tornare in Italia, perché c'è il codice rosso, che poi vorrei capire, cioè, dove c'è là sto codice rosso, perché non risulta da nessuna parte, vabbè, Samuel diciamo, aveva delle informazioni sull'abitazione, ci sta peraltro seguendo, quindi grazie Samuel, potrai correggerci, se diciamo cose non vere, lui si è reso disponibile, per dare delle informazioni, sull'abitazione, ma non perché ci fosse un obiettivo di sequestrare, ma questa, ma sequestrare la Bugamelli, ma a chi lo chiedevamo riscatto? A Zeppelini, fatemi guardare. Però inizialmente, Roberta, l'anno scorso su questa storia, nel codice rosso, né in cielo né in terra, questo da Bugamelli, ma cioè ragazzi, ma veramente, ma vi rendete conto che è una roba delirante, ma proprio delirante, semplicemente volevano capire se stava in America oppure no, perché il problema di questa signora, è uno solo, non è che non torna in Italia, perché l'aspettano all'aeroporto, con i fucili, a Fiumicino, a Fiumicino ci spettiamo lì davanti con i fucili, ma ragazzi, questa è stata un'accusa fatta, cioè vi rendete conto della gravità di uno simile delirio? Perché questo è un delirio, ok? E peraltro probabilmente il fatto di stare da un anno con uno che ha la mania di persecuzione, forse ha contagiato anche lei su questo punto, perché ti assicuro che è una roba che non sta in cielo né in terra, ok? In più, ripeto, questa, cioè il famoso codice rosso, ma di che cosa parliamo? Lì c'era semplicemente una situazione in cui si chiedevano se era là oppure là, il problema è che lei non torna, non è perché si sente minacciata, anche perché se c'è qualcuno che minaccia è proprio lei. Io nelle otto denunce che ho fatto, fino ad oggi, ho allegato numerosissimi post di soggetti che seguono lei, che si rendevano, si candidavano a farmi del male, ok? Su invito suo, avete sentito la sua viva voce, che invitava tutti a difamarmi ovunque, questo già un anno fa, ok? E abbiamo molto altro, che però non voglio rovinarvi la sorpresa poi davanti a un giudice, ok? Quindi, qual è il problema? Non è che non torna perché ha paura, non torna, cari signori, perché avendolo visto scaduto per il visto turistico, questa signora, se torna, se mette i piedi in un aeroporto americano oggi, con le segnalazioni che ci sono, è un bel problema, perché l'arrestano, la incriminano, e poi li fanno un processo di espulsione, esattamente come hanno fatto con Zeppellini, solo che lui si riese irrepellibile, e da allora, dal 2012, vive come un topo di fogna rintanato, con i documenti falsi in America. questo è il problema per cui non torna questa signora, non perché è minacciata, perché qua non l'ha mai minacciata nessuno, le minacce che riceve se le fanno loro, sono certa di questo, nessuno delle persone con cui io sono in contatto, si è mai sognato di minacciare questa ragazza, quelli sono fake, sono tutti fake, secondo me manovrati da Zeppellini, per creare questo clima finto, di minaccia nei confronti di questa qui, siccome nessuno si sogna di minacciarla, le minacce se le fanno loro, né più né meno, nessuno mi ha mai minacciato lei, nessuno ha mai minacciato, peraltro con minacce dove si fa riferimento a me, ma secondo voi, se io mando qualcuno a minacciare qualcun altro, cosa che non farei mai, perché non sono una patetica psicopatica, come questi signori, ma secondo voi li faccio fare riferimento a me, nelle minacce? Ma quale imbecille del più imbecille del pianeta, può fare una roba del genere? Cioè il Nobel dell'imbecillità, proprio totale, cioè io faccio minacciare qualcuno, e faccio in modo che nella minaccia, si faccia riferimento a me, ma chi ci può credere? Ma chi ci può credere? Roberta posso fare una puntualizzazione, su questa cosa delle minacce, visto che comunque le accuse saranno tra me, e il famoso ormai, Lucio Lipari, l'allocrime, io sono convinto, che siano stati loro, o c'è qualcuno molto vicino a Francesca Bucamelli, per un semplice motivo, vi faccio ragionare, quindi se siete anche voi followers, o persone bannate da M-Team, per un semplice commento, capirete che è impossibile dire A, nelle loro chat, sulle loro pagine, nelle loro dirette, perché in un anno secondo ti bannano. In 30 secondi, quello lì, guarda caso, fatalità, quella famosa sera, lo lasciano chiacchierare per ore, ma vi sembra verosimile? Appena dici A, una parola a favore di qualcun altro, ti chiudono in tre secondi, guarda caso, questo come si chiamava? Non mi ricordo neanche il nome di questo fake, che minacciava continuamente, facendo riferimento, il genio del male, no? E per ore, per ore, certo, di tutto e di più, ma ragazzi, ma voglio dire, cioè, giusto Zeppelini, che scriveva le scenografie per i film, che poi non andavano in produzione, ci poteva cascare una roba del genere, cioè, è talmente una roba idiota, nella sua costruzione, che veramente per crederci ci vuole davvero un imbecile totale, ma uno va a minacciare qualcun altro, che però gli fa fare riferimento a me, le minacce, ma guarda un po', il minacciatore più imbecile del pianeta, cioè, ce n'è di tutti i colori qua, di tutti i colori, ok? Monica, c'è il, c'è il microfono spento. Allora, io volevo dire una cosa, anche perché... tutti quanti, per l'amore che mi state dimostrando, per il supporto, per quello che farete per aiutarmi in questa causa, vedrete che sarà una cosa grande e grossa, se ce la facciamo, io purtroppo devo mettermi giù al lavoro, perché stasera abbiamo una live davvero, davvero importante, quindi, purtroppo non riesco a stare dietro a tutto, ma, se ci coordiniamo, spacchiamo i culi, e vaffanculo a questi che credono di poter fare quello che vogliono. Eh beh, l'atteggiamento tipico di una vittima, questa qua, no? Una vittima terrorizzata, è talmente terrorizzata, che invita tutti a rompere i coglioni a me, ovunque possano. Pensa quanto è terrorizzata. Ma ragazzi, io volevo spiegare una cosa, ragazzi. Se mi prende per il culo dalla mattina alla sera. Io volevo spiegarvi una cosa. Si rendete conto della follia di una roba del genere, della gravità di una cosa di questo tipo, che ovviamente ne risponderà, perché naturalmente anche questa roba finirà, in procura molto velocemente, insomma. Ma, cioè, ci rendiamo conto? L'accusa che io rubo i video alla Rai, con la mail falsa, che si attribuisce il diritto di poter gestire i video, i contenuti della Rai? Cioè, se non la dimentico però, perché noi questo lo dobbiamo spiegare punto per punto, per farvi capire l'idiozia, ragazzi. Perché loro, per giustificare di essere in possesso di questa mail, hanno dichiarato che il DMCA ha mandato una segnalazione all'avvocato Guglielmelli, ma quando si è visto mai dagli USA, ma perché devono contattare Guglielmelli? E' un po' di questo tipo americano, dei video della Rai, poi un giorno ce lo spiegherà Zoppellini, perché il passaggio è veramente impossibile. E poi chi va a contattare? Guglielmelli. Ma perché non vi fate due domande? Perché non vi fate due domande? Perché qui ci saranno quelli dell'avvocato Melli. Perché stiamo spiegando per un problema che eventualmente, nella fantasia di questo soggetto, riguarda la Rai e me, chi contatta? Guglielmelli. Ma scusate. Perché? Perché? Lo sapete perché non se le fanno le domande, adesso ve lo dico io, perché purtroppo, leggendo le minacce, le offese che hanno fatto, e lo ridico, siete una serie di sfigati, quelli che seguite l'avvocato Melli. Non avete un piccolo cervello e avete paura che quella ragazza vi blocchi, perché non ci avete una mazza da fare. Dalla mattina alla sera e quindi per riempire le vostre giornate vi siete tutti stessi. E quindi per riempire le vostre giornate, e per riempire le vostre giornate, se vi blocca, fatemi le domande, vedrete che risposte che... Altro che tenere due, tre ore in live è quello che minaccia. Ma ragazzi, non lo sapete che è tutta una manfrina, dall'inizio alla fine. Fate due domande e passerete... Fate due domande e passerete anche voi, come i fake dell'Abruzzone, sarete rinunciati, provateci e venite. Io per loro sono un e treina, evidentemente sono almeno cinque persone per fare tutto quello che mi attribuiscono. Io vorrei avere tutta questa disponibilità temporale, ma purtroppo io lavoro davvero. E lavoro tanto, tantissimo, con buona pace loro. E sono in tv tutti i giorni, nonostante sia due anni che Zeppellini cerca in tutti i modi di far sì che questo non accada. E non solo, vi annuncio anche che ho ricevuto un'ulteriore integrazione di contratto, anche in condizioni addirittura più favorevoli. Quindi per questo, mi dispiace per voi, ma questi tentativi sono veramente vani. L'audio che abbiamo fatto sentire con la Bugamelle che invita tutti a perseguitarmi, perché di questo parliamo, è di un anno fa. Mi pare che abbia avuto grandi risultati, ma questo non importa, perché la volontà persecutoria è evidente, come è evidente in tantissime altre questioni, come è evidente in questi video deliranti che continuo a fare per far credere di essere una vittima. In realtà, ripeto, se di vittima parliamo per questa ragazza, è vittima di se stessa. di se stessa. Peraltro, io le auguro di comprendere bene la situazione in cui si trova, perché a sentire le mamme che ci hanno contattato, e tra poco vi mostriamo anche alcuni messaggi, è una persona estremamente violenta, è aggressiva Zeppellini, quando le cose non vanno come dice lui. Andiamo però per gradi, ripeto, perché è nato tutto questo? Perché io conobbi Zeppellini, e all'epoca si mostrava ancora su Skype, con il nome di John Peschiera, perché era un collaboratore dello studio Bernardini de Pace, per il tramite di un avvocato, che poi purtroppo è coinvolto in una serie di reati che riguardano Zeppellini, che si chiama Luciano Faraone, ok? E' stato mostrato anche dalle Iene, quindi non vi sto dicendo nulla di, diciamo, di segreto. Quindi, che succede? Per circa sei mesi abbiamo collaborato, lui si era tirato fuori tutta una serie di attività legate alla salvaguarda del copyright di aziende importanti italiane, dicendo che lui era in grado di dimostrare che c'era un grosso mercato di pirateria che danneggiava queste grosse aziende italiane e che noi potevamo essere, in qualche modo, a loro servizio, dal punto di vista della consulenza tecnica, per oadiuvare l'attività della procura, diciamo, delle procure italiane, per salvaguardare queste persone anche negli Stati Uniti. Si è inventato tutta una serie di situazioni arzigogolatissime, legate alla normativa americana, che chiaramente io conosco quella italiana, quella americana la posso conoscere parzialmente, insomma, in maniera più superficiale, certamente. Morale, godendo dell'accreditamento da parte dello studio Berandini e De Pace, comunque un studio italiano importante, no, dal punto di vista dell'avvocatura, per un circa sei mesi, sì, abbiamo collaborato e abbiamo chiacchierato molto e ci siamo visti circa sei mesi, non ti dico tutti i giorni, ma quasi. Quindi io la sua faccia ce l'ho chiarissima davanti. Morale, a un certo punto, lui comincia a tirar fuori tutta una serie di reati gravissimi, dicendo che erano stati commessi da persone che lui indicava, ma fornendo le sue classiche prove farlocche. Ormai potreste anche conoscerle, tutta roba finta, timbri finti, firme finte, non si capisce un cazzo. Quindi tu guarda, all'epoca John Peschiera, Peschiera peraltro è il cognome della madre, è giusto per essere chiari. E tu guardi, io non posso firmare una consulenza basata su questa documentazione, perché io devo produrre la genesi, cioè la fonte di quella documentazione, in modo tale da consentire all'autorità giudiziaria di fare tutte le verifiche del caso, perché io, se non ho garanzia della fonte, non firmo niente, assolutamente. Lì sono cominciati i problemi, perché queste famose prove non arrivavano, perché erano tutte invenzioni sue. Scusa un attimo, c'è un intervento? Tutte invenzioni, ma addirittura voleva accusare tre persone che hanno un nome e un cognome di reati gravissimi nei confronti della RAI, perché evidentemente la RAI è un po' sempre stata nella sua follia. Io ho detto, John, guarda che non possiamo fare una denuncia del genere con la roba che ci mandi te, perché è una denuncia gravissima, questi rischiano il carcere, e noi rischiamo la calugna se andiamo a produrre queste minchiate senza avere una prova oggettiva. Produceva tutto, tutto finto, numeri di procedimenti in America mai esistiti, indirizzi mai esistiti, poi noi abbiamo verificato tutto, quando poi ho fatto la denuncia per truffa, per cui lui ha rinviato al giudizio con un complice, ed è irreperibile, perché ovviamente lui non è presente sul territorio italiano. Vi assicuro che la procura di Roma l'ha cercato ovunque. L'ha cercato ovunque, a quel punto hanno fatto un decreto di reperibilità, gli hanno nominato un avvocato d'ufficio, quindi Mirko se ti vuoi presentare al processo a breve potresti anche insomma farlo, so sforzo. Scusami Roberta, ti devo interrompere un attimo, Roberta scusami, ti devo interrompere un altro, perché devo spiegare una cosa. Il problema era questo, che essendo che avevamo capito che stava dicendo una marea di minchiate, è diventato aggressivo, diventando aggressivo noi abbiamo fatto i nostri passi per tutelarci, perché abbiamo capito che è una persona squilibrata. Ok? Io voglio fare solo un piccolo appunto, scusami Roberta. finché a maggio finalmente identifico la sua reale identità, cioè c'è un peschiera, è Mirko Zeppellini e lì salta fuori un mondo di truffe, contro truffe, l'aperizia psichiatrica in America, il manicomio criminale, il carcere, tutta una serie di questioni gravissime e a quel punto la situazione diventa chiara. Ok? Io voglio spiegare una cosa, perché qui la gente continua a non capire, allora ve lo voglio spiegare io in maniera molto lineare. voi continuate a parlare della Bugamelli. Il problema della Bugamelli è che a noi della Bugamelli non ce n'è mai fregato nulla. E mi dispiace, parlo a nome anche delle persone che hanno provato a spiegarvelo. quando hanno mostrato il famoso volo e quant'altro, l'hanno segnalata, questi profili fake, non aveva l'intenzione di fermare lei, perché lei è andata in vacanza negli Stati Uniti, ma lei era con Mirko Zeppellini. Ora, Mirko Zeppellini, a parte aver truffato la dottoressa Abruzzone e altri, continua a truffare ancora oggi delle famiglie disperate e stracciendogli denaro e poi minacciandole. Quindi, quando dicono di segnalare la posizione della Bugamelli alla polizia, non è per fermare la Bugamelli, che oggi probabilmente se è illegale verrebbe fermata, ma quando è partita e la segnalavano, ma chi volete che gliene fregava della Bugamelli? volevano segnalare una persona che vive illegalmente negli Stati Uniti perché il decreto di espulsione di Zeppellini è online, ragazzi, è online. Queste informazioni le trovate su Google. La Corte Americana le condanne, l'avvenizia psichiatrica, è tutto online. Nessuno ha mai perseguitato la Bugamelli. Quando diceva, facevano i riferimenti, l'hotel, che avete letto, tutte queste stronzate, era per capire dove stavano. Ma non per fare male alla Bugamelli, per segnalare a chi cerca Zeppellini. Perché il problema, se vi parliamo di Zeppellini, non è per tralasciare la Bugamelli, ve l'ha spiegato poco fa, ma che ce ne dobbiamo fare della Bugamelli? Ma dove sono le minacce di morte? Voglio dire, giusto, Stary John, io non so chi tu sia, ok? Verosimilmente, se è un fake, è va bene. Ognuno fa quello che può con quello che ha, per carità. Ma siete con Francesca in questo momento come fate a sapere dov'è? È lei che dice che è in America. E noi non abbiamo un motivo di dubitarne. Poi anche l'avvocato ha detto che è residente negli Stati Uniti. L'avvocato che partecipa a un reato di sostituzione di persone, atti persecutori, diffamazione aggravata, quell'avvocato lì, è affidabile? Secondo te, uno che manda, che pensa, che dice che il DMCA americano ha contattato lui per una problematica legata alla RAI, che la RAI non sa manco questo qua, da che parte è girato la mattina quando si sveglia? Terri John. Non siamo un avvocato affidabile, uno che dice una roba del genere, fai tu le tue valutazioni. Terri John, Zeppellini, M-Team, non esiste. Cioè, Zeppellini, per questo, è rinviato a giudizio. Mirko Team, non esiste. Non gli dice che è con M-Team, è con Mirko Zeppellini. Questo america faccia del pifero che ci avete davanti, questo squilibrato, psicotico, con delirio di persecuzione e con disturbo delirante, questo, che maltratta le madri, che sfrutta il dolore della gente, sto sciacallo, sto serpente a sonali, questo è M-Team, non esiste nient'altro. Io voglio fare una domanda, Terri John, quindi Marazzitta è impazzito, ma un avvocato del suo calibro che è in diretta di YouTube, dice, ce l'ha con la magistratura o dà dello stupidino a un noto giornalista. Così, davanti a tanta gente, tu come lo reputi? Uno che ti menti in questo momento? Marazzitta non fa più niente, non è proprio niente, cioè, Marazzitta non esiste per noi, da nessun punto di vista. Da nessun punto di vista. Ragazzi, ha detto che un noto giornalista è un po' stupidino, un po', cioè, ma ragazzi, volete... Ragazzi, bisogna anche vedere come vengono poste le cose, perché conosciamo... con la Giulia il Meglia, la RAI, con... cioè, contribuendo a un reato, con una... facendo riferimento a una mail che dimostra, proprio l'hanno dimostrato loro, gli hanno fornito loro le prove che è avvenuto il reato di sostituzione di persona. Noi, senza quella... quella roba delirante che hanno pubblicato loro, non potevamo provare che ci fossero davvero loro dietro. Avevamo il sospetto, ma non avevamo la prova. Ce l'hanno fornita loro. Ma te te pare normale che due avvocati si mettano a fare una roba del genere? Con una... Terrigion sarà... Comunque Terrigion sarà lui, eh? Eh? Terrigion è lui, è Zeppellini, eh? Mostra la lettera, mostra la lettera in diretta. Allora, innanzitutto che... Terrigion è lui, ancora qua, stai. Non ce la fai qua. Mostrate la lettera in diretta, è lui, è lui. Quello che voi non avete capito è che non si possono fare delle accuse a caso. Allora mi tiro subito in mezzo, io visto che sono abbastanza... La lettera in diretta non mi la fate vedere. Terrigion è Zeppellini, questo qua è il suo modus, fatelo vedere, è lui, è lui. Vuoi vedere che non era lui stasera? Ciao, Mirko. Serve di essere un attimino più. Dai Mirko, tranquillo, su. Rilassati, respira. Tanto funziona così. Non te ne andrà mai bene una. Ormai devi un po'. Terrigion, spiegaci che se... Vai sul loro sito, la vedi la lettera? Dove fai riferimento a questa roba qua? Ma è falsa? Ce l'ha detto YouTube? È falsa? Ma secondo te la Rai scrive con la lettera dmca.online.gmail? che c'è la gmail? Ma scusate, eh? Ma due più due, siete riusciti a imparare a farlo nella vita o siete veramente... Non dice quello che scrivete. Terry, mi vuoi spiegare, perché io vi faccio una domanda, no? Perché noi siamo boomer, ma secondo voi, no? Una che trasmette su Twitch, solo perché Twitch ha la sede in California, ha diritto di vivere nei USA? Perché ci trasferiamo tutti, lì, ragazzi. Cioè, lei ha detto che ha il permesso... Ma permesso di che? Ragazzi, lei dice che è regolare lì perché lavora per Twitch che è americana, ma ragazzi, ma vi fate prendere per il culo. Cioè, vi dà degli stupidi e voi siete d'accordo. Dai, ragazzi. Cioè, la seguite, ma a noi... mettete su una Khan Twitch, andate in America e vedete un po' quanto ci potete rimanere in America con la Khan Twitch. Ma dai. Lavorate per Twitch. Vedete un po' un attimo. Dai, ragazzi. Vedete un po' un attimo. Provate. Ma provateci perché meritate un minimo... Cioè, dovete imparare a stare al mondo. Noi lo diciamo anche per voi perché vivere con questo tasso di imbecilità è pericoloso. Rischiate di fare veramente degli scivoloni terribili. Dovete risvegliarvi. Ma ragazzi, ma Terry John, ma l'ignoranza, ma che c'è bisogno di sapere dove sta Francesca? Ma tu non sai come funziona le leggi americane? Come bisogna stare lì? Che è difficilissimo. Cioè, ma è da un anno che è lì. Ma perché? Neanche ingegneri superquotati hanno... gli ostacoli vanno a pigliare questa. Questa qui... Non fa niente. ...le live in italiano su Twitch. Ma, cioè, ma fatevela una domandina. Ve l'ha detto lei, eh? Terry, comunque, con tutto il bene, la bugamenti... La residenza. Ma ce l'ha detto lei il motivo per cui l'ha avuto? È impossibile. L'ha detto lei. Lei ha detto che sta là perché lavora per Twitch. L'ha detto lei. Non te lo sto dicendo io. Se tu pensi che sia possibile, ma tanti auguri, mi dispiace per voi se questo è il vostro quoziente intellettivo, eh? Che non dovete credere a me o a lei. Aprite Google e chiedetegli quello che volete. Perché a voi? Ma io veramente, ah? Anche le accuse di revenge porn nei confronti di questa. Ah, donna santa. A questi signori qua. Allora, poi, lei può stare dove vuole. Basta che non mette il mio nome con delle accuse false. Non ce ne può stregare di meno. A me interessa che parte al processo contro di lei per atti persecutori e per tutti gli atti che le sono stati attribuiti. Il procedimento sta andando molto bene e stiamo per concluderlo. Quindi, penso che a breve... Poi parlate di screen mostrati. Io voglio vedere lo screen dove pubblico la roba. È uno scatto della signora Bugamelli in... su Instagram dove invita tutte le persone ad andare sul suo profilo OnlyFans perché lei chiaramente deve, insomma, ha pagato le bollette, mostrando le tette e probabilmente anche qualcos'altro e quindi è lei pacificamente che dice di essere lì. Ma per carità non è mica un reato. Non vi sto dicendo che sia un reato. È un reato raccontare che c'è la gente che fa revenge porn contro di lei quando non è vero. Questo è un reato. Ok? Questo è un grave reato. Soprattutto quando le bugie che racconta sta signora queste menzogne stratosferiche peraltro noi non vi vogliamo mostrare il resto che c'è ed è liberamente fruibile su Google. Non ci credete? state su Google la malia porn e poi date vedete voi che cosa salta fuori Google eh non sto invitando a fare ricerche l'abbiamo messo noi Google e ce l'ha messe lei e su cui peraltro ci stanno proprio anche sul suo Instagram le medesime foto quelle un pochino nel passaggio un po' meno esplicito sessualmente ma chiaramente diciamo di tipo sessuale in cui non abbiamo usato le sue foto per verità scusami ragazzi non l'abbiamo fatto né io né Giovanni Langella né Roberta noi tre non l'abbiamo mai fatto io non ho mai pubblicato una cavolo di foto di Francesca Bugamelli e lei mi accusa di questo guarda che stasera noi potremmo pubblicare tanta roba sulla Bugamelli non lo facciamo non ci siamo allora Pepito visto che tu dici Pepito dici che lo dici anche tu che l'abbiamo fatto c'è perché la signora ci ha accusato di fare revenge porn ma perché lei dice che siamo noi ma è lei che ha per sua stessa missione per parecchio tempo su foto che chiaramente erano di tipo diciamo sessualmente esplicito per fare le sue attività legittimo non ti sto dicendo che è un reato il reato è accusare qualcuno di aver fatto un reato ma quale post quello è un reato ok Pepito tu sai di cui lo avevo confermato sono online peraltro nel suo profilo instagram è tutta roba che abbiamo prodotto nelle denunce quindi tutta roba che tranquillamente è tutta online non c'è fonti pubbliche non c'è nessun problema ma quale è l'evento non c'è neanche se ti bisogna spendere tutto gratis non c'è neanche bisogno di iscriversi poi qualcuno parla del discorso della prostituzione ma uno in privato se parla con una persona avrai il diritto di ritenere che se una va su Holy Fund si prostituisce se uno dice in privato qual è il problema ragazzi e come gli audio gli audio sono stati seppellini oggi unitamente a quelli precedenti fanno parte di una chat senza problemi io sono chat tra me e lui due persone che si parlano non c'è nulla di diffamatorio quindi non ho nessun motivo di dirvi che non sono audio miei perché non c'è nessun problema il reato lo sta commettendo lui ora che li sta diffondendo esatto allora se vogliamo parlare di revenge porn questo cos'è un reato di messaggio revenge no? perché per carità sono poi peraltro cose che neanche disconosco perché sono tutta una serie di indicazioni che fanno parte delle mie opinioni che peraltro riferivo con lui né più né meno per cui sono dialoghi privati quindi non hanno nulla di penalmente rilevante lui lo sta facendo in maniera persecutoria quindi per lui è un reato ma non certo per me ma la cosa divertente ragazzi sempre perché questo è un povero imbecille oltre che psicotico scusate la franchezza io lo offendo in maniera pesante perché spero che lui venga in Italia per affrontare un processo perché se non viene qua non mi può denunciare se non viene qua eh non mi può fare un cazzo quindi tu devi venire qua te ne sto dicendo di tutti i colori apposta devi venire qua vieni vieni a farti il processo per truffa aggravata per atti persecutori per frode processuale per calugna devi venire qua e poi mi puoi anche denunciare ma per venire qua devi venire qua capito? non mandare le dichiarazioni farlocche coi timbri finti dei finti notai che non esistono dicendo che John Ben Amie è un residente negli Stati Uniti con notai o pinco pallo che non esiste col timbro spasso scritto su Amazon o ciccio ma con chi pensi di avere a che fare con chi pensi di avere a che fare ma con gente che gli crede ragazzi siete voi che vi fate prendere per idioti è una cosa che fa una procura verifica non è che si fa raccontare le michiate in tre secondi si sono resi conto che era tutto falso dalla prima all'ultima riga tre secondi ci hanno messo poi sono i PM che sono io raccomandata sei tu che sei un imbecille perché le prove farlocche ormai non funzionano più se vuoi venire qua devi metterci la faccia e rischiare ma quale minacce per la vita ragazzi ma veramente ma siete seri ma quale minacce ragazzi in galera vivo e vegeto in galera ma dai ragazzi una salute in galera no ma parla della bugameli ragazzi ragazzi ma dai le minacce questa sono tutta roba fake di Zeppellini sono tutti fake di Zeppellini che le ha minaccia apposta per far credere che sia sotto minaccia ma chi se la considera questa qua ragazzi ma secondo voi uno va a passare un guaio va a passare un guaio con la vita vado e per Francesca ma tutto apposta ma come fate a credere queste cose non neanche chi fosse finché non ha cominciato a diffamarmi su tutti i canali che ha non sapevo neanche chi fosse questa non avevo proprio idea della sua esistenza quindi pensa quanto me ne può fregare di questa di dove sta chi sta quello che fa mi interessa che paghi per i reati che ha commesso questa è una cosa diversa ma chi interagisce non ho nessun motivo di augurarle nulla di male sul piano fisico spero che sia una persona che paghi per le conseguenze delle sue azioni ragazzi scusatemi qui continuo a chiedere siete arrivate tardi poi vi rivedete la live sul video della RAI abbiamo già risposto su monetizzazione e tutto quindi noi non ci ripetiamo voi tornate indietro e ve lo vedete tanto qui le persone presenti ve lo diranno che abbiamo già risposto è una mail falsa creata da Zeppellini che si è spacciato per la RAI è tutto provato tanto è vero che questa roba qua è già chiaramente all'attenzione della magistratura è una mail falsa creata da lui dove si è spacciato per un'agenzia che gestiva i diritti della RAI per segnalarmi quindi la mail è questa qui online.dmckatd chiocciolagmail.com youtube chiaramente ci ha fornito tutte le indicazioni e naturalmente anche la RAI ci ha confermato che non ha mai segnalato tanto è vero che il mio canale è esattamente dove sta e gode di ottima salute Pepito lei prima scriveva che c'erano gli screen riguardo alle pubblicazioni e le accuse fatte no Pepito sei rincoglionito scusami ti ho detto ti ho risposto io ti ho detto di andare indietro che ne abbiamo già risposto non possiamo ripetere sempre le stesse cose e visto non risponde ti collegavi alle 9 e avresti trovato risposte poi te la vedi te la rivedi la prima parte ti trovi tutte le risposte non risponde ma viene e stiamo qua e ripetiamo sempre le stesse cose perché se sei in ritardo non è colpa nostra non ha risposto vabbè ragazzi Pepito se tu non capisci non è colpa nostra noi purtroppo cerchiamo di ragionare non c'è risposta io l'ho anche spiegato ragazzi ma niente è un po' li ho monetizzati o no non è vero state mentendo vabbè non ha risposto e allora vai tanto non ci perdite te lo stanno dicendo anche gli altri che abbiamo risposto rispondete come vi pare no chiaramente abbiamo risposto non li ho monetizzati l'abbiamo anche spiegato e comunque ripeto anche se li avessi monetizzati non è la RAI che ha segnalato è Zeppellini che si è spacciato per un'agenzia che gestiva la RAI ed è per quello che avevano in mano ma voi ragazzi Pepito ma tu io li ho visti quei video li avevamo monetizzati Pepito tu mi spieghi perché sei una persona intelligente com'è possibile che dagli Stati Uniti segnalino l'abruzzone allo studio di Guglielmelli voi che siete intelligenti e vi offendete se vi danno delle scorreggie digitali me lo vuoi spiegare tu perché dagli Stati Uniti segnalano l'abruzzone a Guglielmelli per la RAI a Guglielmelli che con la RAI non c'ha niente a che vedere ce lo spieghi spiegacelo tu ce lo spieghi tu io ho letto la lettera sì quella falsa dai quindi quella falsa loro dicono che dalla DMCA hanno contattato Guglielmelli lo dicono tutti e due con Guglielmelli che dice di sì ce lo spieghi come è possibile lo spiegherà un magistrato come è possibile dovrà spiegarlo un magistrato come è possibile visto che ne abbiamo ma perché non rispondete su quello che scrivete sulla Buglielmelli scusatemi dice che quella mail non gli appartiene silenzio Chiara ci vuoi fare questa domanda che ti rispondiamo perché se no poi sfuggono ci spieghi qual è la domanda sulla Buglielmelli che ti rispondo io mostrate la pecca da RAI non l'hanno fatta la pecca sta qua hanno mandato quella con Gmail basta Pepito ma dai ma Pepito ma ragazzi mi fate aiutare Chiara perché non vai da Francesca Buglielmelli e chiedi le minacce di Giovanni Langella la pubblicazione delle foto porno di la male a porno di Giovanni Langella che aveva detto che avete gli screen io non li ho mai visti nei video non li ho mai visti nelle dirette dove ci sono le mie cose che lo sapete che fare di tutta la buon fascia non è roba buona cioè quello che voi dovete imparare a fare perché altrimenti le rinunce ve le beccate anche voi come se le sono beccate altri utenti perché la lista è lunga è andare a fare una cernita di quello che affermate di quello che dite e non fare tutta la buon fascia perché se fate un mare magnum di cose e mi accusate di revenge porn di aspettarla all'aeroporto per ucciderla di aver preso le sue foto dell'indirizzo di casa e quant'altro è ovvio che io denuncio innanzitutto Francesca Bugamelli perché così chiariamo un attimino in tribunale quali prove ha per dimostrare ciò e poi venite denunciati ovviamente anche voi perché ingrizi P non solo l'M team li sa prendere ce li ha lui dove ha ce li ha lui concordo no a lui lui qua Terry John Mirko qui concordo io ho visto i posti commenti di Angelo quali sono sono posti di revenge porn o perché dicevo che mi faceva cagare quando faceva mi scorreggia e subriacava nel TG Cry no Chiara io sono seria Chiara io voglio scusatemi Chiara io sono seria voglio che tu mi fai una domanda e io ti rispondo cioè io non ti sto perché ragazzi voi dite non date diretta no noi siamo qui perché la gente che segue noi lo sa abbiamo fatto un refresh per spiegarglielo però siccome c'è tanta gente che lei più diventa pazza perché qua siamo ai deliri e ci contatta e ci chiede ma è possibile io ricevo un contatto di morte la sera in cui lei diceva di essere minacciata da questo fake che chiaramente era da Bellini io ho ricevuto le minacce di morte da alcuni suoi follower che ho prodotto alla procura quindi tranquillamente quando verrà a fare il processo li avrà tutti potrà fare copia del fascicolo quindi avrà tutto perché lei continuava a dire che comunque le minacce io ero il mandante ora secondo voi io mando qualcuno a fare le minacce di morte alla Bugamelli e faccio in modo che la persona faccia riferimento a me dai ragazzi la minaccia ora ripeto ci può prendere un criceto morto come capacità come come il moribondo ci arriva a capire che c'è qualcosa che non va sul gruppo facebook ragazzi fermiamo la truffa e me team fermiamo i truffatori il gruppo hanno organizzato il suo sequestro ragazzi su facebook con i nomi e i cognomi ma un gruppo dove dove loro dicevano che la polizia e i PM c'erano allora ragazzi se davvero se davvero ci fosse anche stata mezzo ma mezza frase compatibile con questa delirante e gravissima scusa saremo tutti in misura cautelare esatto ma ragazzi ma scherzo ok tutti dal primo all'ultimo perché è un dato molto grave il gruppo è privato e io ero dentro e noi siamo stupidi abbiamo organizzato il segreto pepito grande grazie 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 pensa quanto era segreto c'è entrato pure pepito pensa quanto era segreto pensa quanto era finalizzato a sequestrare la bugamare poi cosa ci facevamo questa qua una volta sequestrata ripeto a chi lo chiedevamo il riscatto a Zeppelini ma il sequestro di persona ma che cosa siamo l'anonima sarda ma vi rendete conto delle puttanate che racconta questa signora con l'accordo di gente che dovrebbe vergognarsi di accreditare certe cagate veramente certe minchiate stratosferiche il gruppo è privato è un nemica segreto primo magari la scelta dell'immagine con la X sulla bugameli può essere discutibile su questo per carità ognuno ha le sue valutazioni da fare non c'entri per carità alcuni possono trovarla magari non appropriata va bene ok avete rintracciato la sua mail o no ma chiara no chiara no ma quando mai perché lei nell'ultimo video delirante ha detto che gli abbia maccherato la mail ragazzi scusa ma quanti ma quanti film ti sei fatta te chiara allora io lo voglio spiegare chiara io ve lo spiego ve lo voglio spiegare io ve lo spiego io quando cercavano questi profili santanico e quant'altro e guardavano le foto che lei pubblicava e dicevano contattate non cercavano lei cercavano zeppellini e ve l'abbiamo spiegato perché lei è insieme a zeppellini perché mteam non esiste ma non lo diciamo noi è scritto nero su bianco su un rinvio a giudizio per mirco zeppellini alias mteam lui per quello è impazzito lui in concorso ad altre persone che avete visto anche nel video delle iene esiste cioè non è una cosa come è che ci fate a sapere che era stato dal Chicago l'ha messa lei la foto chiara le mette lei nessuno gli ha scattato le foto tutta roba sua ma certo ragazzi ma poi perché continuate a dire la vita allora qui ci siamo io la dottorista Fuzzone e Monica Demma andate a prendere eventualmente o sia niente andate a prendere le cose che hanno fatto gli altri siamo che abbiamo la personalità cioè ormai è stati sapete chi ma sì ma perché ormai cioè ragazzi quando uno fa delle accuse deve anche poi sostanziarle ok perché qua stiamo cominciando ad essere un po' infastiditi da questa continua continua ricerca di accreditare scenari completamente fasulli gravissimi noi non siamo un gruppo di delinquenti io ho semplicemente fatto in modo che le persone che venivano ingannate da questo delinquente lui sì lui sì e da quelli che insieme a lui collaborano nel proseguire questa attività di truffa esecrabile perché si fonda sulla disperazione della gente gli fai vedere uno dei messaggi della Meri Coci Meri Coci Meri DS e la mamma di Giulia di Sabatino ok siccome sono messaggi che lei ha scritto pubblicamente sulla mia pagina pubblica mi ha autorizzato a mostrarli allora questo voglio specificare che il primo di una serie di messaggi che non mostreremo perché tutte quelle famose famiglie che anche hanno prestato la spalla alla Bugamelli nelle sue dirette quindi a M Team che avevano addirittura sul posto di denunciarci perché avevano subito minacce si sono tirate tutte quante indietro perché anche raggio benissimo qual è il gioco ma denunce per interposta persona ne abbiamo no andiamo a vedere un attimino che cosa è successo qualche giorno fa io non ho carichi pendenti quindi che cosa ti devo pubblicare ma perché non lo chiedete a loro perché non lo chiedete a Merco Zeppellini vale a chiedere alla Bugamelli il 35 visto che siete grandi amici chiediglielo a lei ma poi perché non glielo chiedete Francesca usciamola dal dubbio chiedere al 35 mio mettici la faccia ciccio mettici la faccia no perché non glielo chiedete ve li verifico poi te lo mando il 35 ragazzi ma poi un anno fa nella diretta la Bugamelli disse che stava venendo il PM alla porta dopo due ore io sto ancora aspettando se è perso ci ha detto di avermi denunciato per il revenge port le minacce di morte non è mai avvenuto nulla io non ho idea perché io non ho ricevuto nessuna notifica io posso dirti delle denunce che ho fatto io dove sono persona offesa tutte le vinciate che dicono questi a me non mi è mai arrivata mezza notifica neanche a me ragazzi ma chiunque può denunciare eh nessuna notifica quindi io non lo so indagata o meno quello che posso dirti è che quelle che mi ha fatto Zeppellini due anni fa per furto per tutta una serie di altri reati di calugna sono tutte archiviate sono tutte state archiviate ma poi ragazzi tutti potete denunciare ragazzi se potete denunciare comunque allora si può essere indagati non ho nessun tipo di informazione se esistono davvero queste denunce o meno io non lo posso sapere ma cosa ha messo bucamelli cosa ha messo nel video una cosa con su scritto procura ma se io mando una lettera alla procura lo devo scrivere procura ragazzi ma Zeppellini con Word ti fa credere di avere addirittura la sentenza in Cassazione ma ancora ci credete o a se minchiate questo falsifica anche la carta igienica voi ci credete ancora? ancora con i PM ragazzi ma perché i PM si scelgono? ma secondo voi i PM stanno dietro stanno dietro a me a proteggere me ma perché? ma per quale che vantaggio avrebbero? cosa gliene frega di me? io sono una cittadina un mito degli altri faccio sto lavoro ma sono una cittadina un mito degli altri se dico delle cose fondate vanno avanti se le cose non sono fondate non si va avanti come tutti gli altri cittadini italiani senza nessuna distinzione eh io non ho notizie di queste denunce è strano perché se questa dice l'avremmo denunciato due anni fa ormai quasi è un po' strano un anno e mezzo è un po' strano che non si sia nessuna notifica perché loro invece le notifiche ce l'hanno e ve lo do per certo e ve lo do per certo questo è un messaggio la ragazza ci mette la faccia seguo Buga ragazzi dico cioè qui non si esprime sul resto però cioè ci vuole un po' fatela girare diciamo i neuroni perché varie cose mi sono sembrate inverosimili anche questa del volere entrare a casa sua ho letto i post per i quali lei dice che vorrebbero entrare in casa sua e farle del male non è assolutamente vero questo e chiunque può verificare ma c'hai ragione Marlene assolutamente ho decontestato per il resto non mi espongo ma nessuno ti chiede gli esporti a Marlene ci mancherebbe ragazzi hanno mostrato con Marazzita dov'è mostrato Marazzita ma guarda che è normale cioè siete ritardati scusa la franchezza è plassi in tutte le procure italiane cittadini italiani che se tu fai una denuncia sia come persona offesa o vieni denunciato normalmente è lo stesso PM che si occupa perché c'ha una conoscenza è lo stesso reato capisci è la competenza è la plassi solo chi non capisce un cazzo di ambito giudiziario per pensare che questa sia frutto di una agevolazione è normale che accade la prassi ovunque in tutte le procure d'Italia è normale che se io faccio una denuncia a te Terry John e tu fai una denuncia a me va allo stesso PM perché deve capire qual è la situazione è più che normale è la prassi è la regola solo un imbecille non lo sa o pensa che questo sia in qualche modo frutto di una manipolazione che Marassita dica che lo stesso PM ha preso la denuncia e lo dica con sorpresa mi fa veramente pensare che questo uomo non stia bene perché dovrebbe saperlo più di qualunque altro che funziona così sempre a meno che comunque è sgamato il tuo tentativo di essoccere parole è perché vuole che tra l'altro visto che lui cita la Pandolfi quindi sei bene informato ebbene la Pandolfi è quella che sta procedendo nei confronti di Bugamelli per atti persecutori per quello la odio ma sta tentando di essoccere delle frasi scole avrò in mano tutta sta roba molto presto proprio lei proprio lei io non la conosco neanche non so neanche chi sia non so neanche che faccia abbia ok non so chi sia ma è normale che ce l'abbia lei perché lei o la Sgro altro PM che hanno citato perché anche la Sgro ha delle denunce che ho fatto io e probabilmente avrà anche le denunce che hanno fatto loro contro di me su alcuni altri capi di imputazione immagino ok quindi ce l'hanno anche con la Sgro perché la Sgro è uno dei PM che sta andando avanti come un treno sulle mie denunce ed è la PM che ha indagato anche tutti voi questo è il problema ma guarda che la normalità la normalità va bene se ci ha denunciato stanno indagando su di noi va bene ma io sono contenta se mi indagano così lo sanno che sono tutte puttanate non ce ne è ma io non vedo l'ora che mi chiami ragazzi ma noi non vediamo l'ora di andare ma non mi ha chiamato come mai no ti ha detto che non lo sa ma vedi sei indagato non lo sa a scemo hai parlato tra te e quell'altro Terry John avete parlato della Pandolfi come fai a sapere che la Pandolfi vuol dire che c'è accesso al 335 della Bugamelli perché guarda caso fatalità è proprio la Pandolfi che sta indagando per altri persecutori la Bugamelli in concorso con altri soggetti come fai a sapere la Pandolfi 120 pietro quindi sei andagata indaga indaga in questa vicenda come fai a saperlo perché evidentemente sei Zeppellini è nel video della Bugamelli perché Zeppellini lo sa e appunto fate le due domande come fai a saperlo o perché come fanno a saperlo o gli è arrivato l'avviso d'indagine e quindi diciamo oppure il rinvio a giudizio sono provocazioni palesi si sta cercando di fare dire che abbiamo qualcosa alla dottoressa Bruzzone di Marazzitta ma puoi stare tranquillo ognuno si classifica per quello che dice ma io non ho mica problemi a rispondere alle domande ragazzi magari giustamente dice Fiore Rossi meno parolacce c'hai ragione Fiore c'hai ragione assolutamente nel senso che poi sono talmente delle robe che mi infastidiscono perché credimi il mio obiettivo era smascherare Zeppellini e tutti quelli che collaborano con lui perché questo io trovo veramente miserabile lucrare sul dolore della gente è una cosa proprio che a me mi fa incassare in maniera profonda ok quindi il mio obiettivo era quello e basta la Mary DS che mi scrive qualche giorno fa e con lei poi evidentemente hanno preso coraggio anche altre mamme che mi hanno contattato privatamente ma chi la deve per testimoniare quindi sono già inserite nella lista dei testimoni da sentire nella mia prossima denuncia e chiaramente quindi rispetto la loro privacy perché non voglio assolutamente che abbiano ulteriori problematiche visto quelle che hanno già avuto ma la Mary DS mi racconta esattamente quello che mi hanno raccontato queste altre madri ossia peschiera pescava solo esclusivamente le mamme adolorate che avevano a che fare nel passato solo con Roberta le corteggiava compresa me purtroppo inventando l'impossibile basandosi solo sulle puntate che andavano in onda e poi una volta che ci aveva in tasca iniziava con me la storia che dovevamo denunciare Bruzzone se su dieci telefonate in nove parlava di Roberta voleva dire che non risolve i casi ma voleva risolvere la sua ossessione rovinare Roberta e non ci vuole mesi e anni per capirlo come purtroppo è successo con alcune mamme che comunque mi dispiace tantissimo un libro con milioni di pagine potrei scrivere incredibile incredibile Mirko Zeppellini mi aveva detto cioè il mafioso latitante più ricercato della CIA era capitato nella casa Tower Bridge nell'agosto del 2005 e gli aveva fatto credere all'America che fosse in qualche modo coinvolto con la figlia Giulia cioè pensate il delirio di questo il più pericoloso del mondo mi fissava brutto e mo' ero terrorizzata senza sapere cara Roberta mia che io peggio dovevo arrivare dovevo lasciare per tre giorni io il mio cellulare da qualche parte senza sentirmi con mia figlia Vanessa Adele l'avvocato se era possibile anche mio marito renditi conto che mi era morta la mia Giulia la mia figlia dovevo dire addio a Vanessa a Londra che la mamma non poteva più chiamarla finché non ordinava Mirko ragazzi questo non lo scrivo io questa non è roba non è farina del mio sacco questa è Mary DS che ne ha scritti una maria di altri mentre dice a mio marito e a me anche che ti è morto un figlio ti sei inventato un figlio morto anche ad adere gli elezioni per farci pena quando ti bloccavamo tu sei pazzo nato ti bloccavo e stressavi il mio avvocato anche di domenica guardate che le stesse identiche cose ce le hanno raccontate anche altre madri le ha massacrate psicologicamente quando queste poi hanno finalmente capito è iniziata una campagna persecutoria anche nei loro confronti minacce di creare profili fake dove difamavano i loro figli morti e beh non dimenticare anche ai consulenti che si vanta delle amicizie in campagna lui con amicizie particolari quando arriva la frutta ha minacciato perché c'è anche questo ha minacciato conoscenze tra la camorra e che quindi faceva bene a guardarsi le spalle se mollava la questione ma non è l'unica cioè le minacce sono costanti ore e ore di telefonate mail chilometriche le bombardava le ha massacrate se povere donne che già dovevano comunque lavorare un lutto terribile perché i loro figli erano morti in circostanze drammatiche questo è Zeppellini Terry dove sono? lo provano loro? le nomina? ma tu le hai più viste le mamme? che case gli sono rimasti? puoi provarlo? hai provato voi sarà testimone dove stanno? mi ha già mandato un sacco di materiale mi ha già mandato tantissime cose dove stanno? dove stanno queste mamme? la signora Biondo dove sta? la signora Giglio? dove è la Campioni? dove stanno queste? parliamo dell'invidia per la soluzione dei casi la famiglia ha trovato? dove stanno? dove sono? dove sono? dove stanno i tirossi? dove sta? voi dovete provarlo? no voi mi state dicendo che stanno là provalo tu provalo tu io questa roba la posso provare come? ma dove sono? e non vediamo ora ma voi ci parlate della soluzione fantastica dei casi? delle tutte? dai parlateci di cosa hanno risolto e le foto quindi Marassita non capisce un caso è ancora continua la domanda e dati la risposta ma cosa provalo? voi ce lo dovete dire voi dovete spiegarci per quale motivo qual è la qual è diciamo l'invidia dei casi che hanno provato cioè dove sono i successi? questo ha valuto su tutto non c'è un caso che uno compreso Aiello la povera Aiello perché il marito è stato assolto non ha combinato niente niente e li denuncerà e sta preparando le denunce perché adesso ci sarà da ridere sulla cantone perché adesso c'è la richiesta d'archiviazione sulle minchiate che ha detto dell'omicidio che ovviamente non esiste ma c'è molto altro su questa vicenda e ci siamo quasi e ci siamo quasi con tutte le prove false che ha fornito lì c'è la questione qualcuno si farà male ma di brutto proprio ma di brutto bella domanda hanno cambiato 6 milioni di avvocati adesso c'è un altro non è mai esistita quest'altro marinelli io non so quale che cosa è sparito spariscono tutti non ve la fate questa domanda non è mai esistita nessuna causa tant'è vero che guarda caso improvvisamente la bolla esplode e gli avvocati che passano come cambiano avvocati come le mutande Rossi era il frontman dappertutto in tv c'era sempre Pettirossi con il suo immancabile auricolare dove è finito Pettirossi e Marinelli dove è finito numero uno degli avvocati d'MT che fine ha fatto Pettirossi l'avvocato Newberg bravo dove sono tutti gli avvocati e Marinelli Marinelli che doveva fare sta causa contro Mediaset a me di perché comunque poi la situazione è degenerata e si è creato un clima d'odio però ora capisco anche grazie alla Meri che probabilmente sono state anche infarcite d'odio contro di me ma ragazzi vogliamo parlare della soluzione del caso biondo che neanche di striscio li hanno considerate le prove di M-Team ragazzi come si faceva io posso capire la famiglia disperata ma come fate a credere che dopo cinque anni da un IP no ma ricordate la storia degli IP delle due persone che non sapevano chi erano vi risulta che risulti da qualche parte che sta roba fosse anche lontanamente realistica ma ragazzi è sempre lo stesso si agganciano al wifi ci sono due persone le abbiamo trovate ci stanno i satelliti e bla 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 sempre solite puttanate è il copione per tutti paspartout non c'è stato un risultato che e Vito qua non dobbiamo proprio andare a sentire nessuno non dobbiamo dire nessuno quasi siamo e per sei patetico sei veramente un solo patetico allora portaci gli screen che riguardano me la dottoressa Abruzzone e Monica Demma su revenge porn minacce di morte le voglio vedere credito che non sia mi scaldo sì ma io vorrei vedere te accusato di una roba del genere una roba del genere sono stato zitto un anno mi scaldo sì perché sono stato zitto un anno vorrei vedere te messo su tutte le pagine con accuse del genere cioè ci rendiamo conto io non ho mai fatto una roba del genere ho commentato l'operato della Bugamelli sì perché mi faceva cagare lo ripeto perché faceva quel tg crime ridendo scherzando scorreggiando ruttando e quant'altro quello è stato il mio unico commento un anno fa apriti cielo e lo ribadisco ancora perché certe cose si trattano con no ma lo vedi poi quando quello fu il mio commento ovviamente poi da lì si è avuto un escalation di cose che è logico che mi fanno innervosire perché poi continuano ma voi parlate di screen video io ho visto anche gli ultimi video di Bugamelli perché ovviamente volevo integrare le denunce che ho fatto non ho trovato nulla che riguardasse me se avesse avuto anche la minima cosa da portare state sicuri che mi metteva in prima pagina ma sicuro non c'ho un cazzo e infatti spero di essere indagato perché ripeto non lo so ma lo spero perché andremo in tribunale e poi vediamo come va a sostenere le accuse che mi ha fatto perché negli screen dove c'è nome e cognome delle accuse io voglio delle spiegazioni rispondiamo alla coraggiosissima pinca palla quindi Marazzita col suo curriculum 85 anni scende in campo per visibilità anche se tutto infondato ma non è solo infondato è un reato è un po' diversa la questione non è fosse solo infondato se la fosse inventata una minchiata sarebbe ancora meno grave no qui è stato commesso un reato che è di sostituzione di persona questo soggetto si è spacciato per la RAI con l'obiettivo di costruire una campagna diffamatoria e persecutoria contro di me basata sul nulla per l'inesima volta perché tanto sono tutte così fondamentalmente e Marazzita e Guglielmelli a questa attività hanno partecipato hanno partecipato scrivendo quella lettera pubblicando quella lettera che ce l'abbiamo quindi comunque queste due persone anche loro sono denunciate per concorso in atti persecutori e diffamazione poi davanti a un magistrato il caro Marazzita risponderà quando gli diranno senta ma lei questa roba qui l'ha verificata dirà sì o no risponderà intanto si trova denunciato anche lui a me non è che io non ho timore reverenziale a me ripeto con tutto rispetto per il simpatico vecchino a me non me ne frega niente di una Marazzita cioè se uno a 85 anni con gli strumenti culturali che ha lui si inserisce in una situazione di questo tipo e non verifica quello che scrive e quello che firma è un problema suo non mio io non è che mi faccio il problema perché c'ha 85 anni cioè uno fa delle cose peraltro ripeto è una persona che dice delle cose peraltro mi ha diffamato gravemente dandomi di una che legge giornalini che non sa neanche se sono laureata se ha dei problemi di questo tipo visto che è un avvocato di 85 anni lo è stato fino a un po' di tempo fa fare due verifiche lo poteva anche fare prima di dire cose così false diffamatorie ci siamo quindi il fatto di partecipare a queste attività non è che siccome è stato 85 a 85 anni è stato avvocato allora necessariamente è l'oracolo di Delphi purtroppo è incappato in una situazione di cui dovrà rispondere perché che la mail che la RAI non è coinvolta nelle segnalazioni noi abbiamo una comunicazione della RAI e che quella mail non appartiene a nessuna delle persone riconducibili alla RAI ce l'abbiamo per certo e che quella mail sia nelle mani a Zeppellini anche perché ce l'hanno fornita loro la prova cos'altro ci serve? cos'altro ci serve? ma ha anche detto di peggio perché ha anche detto che deve parlare col procuratore generale perché ci sono certi sostituti procuratori che non fanno il loro lavoro riferendosi alla procura di Roma quindi non al procuratore in generale cioè ragazzi ma non puoi fare dichiarazioni del genere capisci? anche se hai le prove non puoi fare dichiarazioni del genere ma poi cosa gli è regalo a chi sta inventando ma non scherziamo ma non esiste proprio che una persona col tipo di esperienza che a lui si permetta di dire cose così gravi sui magistrati lui non sa che normalmente quando ci sono soggetti e gli stessi soggetti che denunciano da parte o dall'altra sia lo stesso PM ragionevolmente col carico di lavoro che ha gestire le stesse denunce non lo sa? non sa che questa è una regola che vale da 40 anni a Roma e anche altrove non lo sa? davvero non lo sa? gli pare una cosa strana? sono i procuratori corrotti? ma di che cosa stiamo parlando? ce l'hai la chat con il figlio di Marassita? si dàmi un secondo allora scusami Pepito ma chi ha detto della criminale? Zippellini è un criminale ascolta ma lascia stare su Pepito che è evidente che si è stato fatto per un pericolione che poi voglia di una roba su questo MT cioè vi rendete conto dell'operato? Marassita tra parentesi ha anche detto che sono io che avrei chiamato il figlio per intercedere ripeto Nino a me di quello che dici te sinceramente potrebbe fregare di me non neanche al massimo dell'impegno per il tipo di considerazione che ho sempre avuto di te pensa quanto me ne può fregare il problema non è questo il problema è quando una persona mi diffama e mi perseguita e partecipa attività criminali a me rivolte quindi quello è un piano diverso dalla questione ma ne parleremo davanti a un magistrato quindi non c'è nessun problema Marassita Giuseppe mi scrive mi chiama il 29 quando esce il primo video dove Marassita è coinvolto e se la prende con me e mi dice ci ho parlato è fuori di testa ho cercato di spiegargli che in quanto è strano alla vicenda il PM correttamente non può non informarlo dello Stato ha detto che allora non conosco il diritto penale al figlio avvocato poi qui abbiamo già io gli mando il rinvio a giudizio di Zeppellini in concorso con l'altro soggetto e lui mi risponde terribile poi c'è Napoli con l'indagine per associazione a delinquere frode processuali eccetera e lui dice sì lo so quindi non è una cosa che so solo io la voce gira in ambienti giudiziari meglio prendere distanze in modo netto perché tra poco scoprirà l'apocalisse e vi assicuro che scoprirà l'apocalisse hanno anche perquisito vabbè queste persone qua ho parlato con mio padre che vuole smentire personalmente perché dopo di che dopo di che aspetta ce ne erano degli altri non so se le hai messi anche gli altri no ho messo solamente questi qui e l'uno a un certo punto mi manda uno screen con la Bugamelli e dice questa chi è con la faccia della Bugamelli ora fate voi metterlo in mezzo però siccome a un certo punto le persone devono anche rispondere di quello che fanno nella vita ok e giustamente insomma la situazione è questa qui quindi puoi mettere invece ecco padre figlio o che io ho cercato di intercedere tramite Giuseppe questa è proprio una minchiata fate pazienza poi qui c'è un'altra questione ma lascio la parola questa la voglio spiegare io allora nell'ultima live che hanno fatto hanno citato diciamo la storia del colonnello Vincenzo dicendo che la dottoressa Bruzzone ha chiamato l'ufficio stampa dei carabinieri e si è lamentata a destra vedete la prova perché una mail di segnalazione carabinieri l'ho mandata io col mio nome e cognome segnalando non la Bugamelli di cui francamente a me non me ne importa nulla ma ho segnalato il fatto che hanno tagliato e ritagliato l'intervista a Vincenzoni per avvalorare la storia dei satelliti vi ricordate che pubblicizzavano che potevate scoprire tutto con i satelliti americani loro fanno questa domanda apposta perché loro hanno due scopi il primo era quello di distruggere la dottoressa Bruzzone il secondo è cercare all'occhi che pagano perché al di là delle famiglie con i crimini loro hanno venduto altri servizi come quello dei satelliti per scoprire i crimini o come quello della pulizia dal web dei vostri contenuti facendo delle richieste spropositate parliamo di mille duemila euro quindi io ho fatto una segnalazione alla mail dei carabinieri col mio nome e cognome la vedete lì poi fermate il video vi fate lo stamp e lo scrivo che loro hanno tagliato e ritagliato perché chiedono a quel povero signore è vero che esistono le foto satellitari ma lo sappiamo tutti che esistono le foto satellitari ma certo non le andiamo a prendere in America per sapere se il cadavere di Iara era posizionato a chignolo d'isolo oppure no perché loro hanno fatto questo evidentemente i carabinieri perché poi la la bugamelli ve lo fa vedere un attimo e lo toglie hanno appurato che quello che io dicevo era vero e li hanno diffidati dal togliere il video buongiorno con dispiacere abbiamo riscontrato che l'intervista rilasciata dal colonnello Vincenzoni è stata artificiosamente utilizzata per analisi e vicende giudiziarie di natura personale alternando nel contenuto concettuale le dichiarazioni così come commentate e montate divergono da quanto richieste autorizzato premesso quanto sopra si intima l'immediata rimozione dell'intervista da qualsiasi piattaforma comunicativa e il divieto di utilizzarle in futuro per qualsiasi scopo a finalità poi cosa succede? lei vi dice che loro hanno chiamato Vincenzoni si sono accordati tutto a posto ragazzi Vincenzoni e Vincenzoni ma quando va in televisione con la divisa dell'arma dei carabinieri non è Vincenzoni è l'arma dei carabinieri quindi è l'arma dei carabinieri che gli dice di togliere il video non è che loro si interfacciano con Vincenzoni che decide sì il video sì il video no loro devono chiedere delle autorizzazioni che sono state date dall'arma dei carabinieri e l'arma dei carabinieri è intimata di togliere il video e voi direte com'è che è lì? ma grazie perché tanto poi alla fine a loro non è interessato più quello sta negli statuti d'America YouTube non capisce niente se non quando fai reclami con per il copyright e quindi sta ancora là però loro non hanno messo un'autorizzazione non hanno una scritta se tu vieni intimato se tu stai in Italia no? i carabinieri ti dicono di rimuovere un contenuto a te va bene che al telefono ti dicano va bene a posto lasciano lì ma la richiesta dell'ufficio diciamo relazione serie carabinieri è questa quella l'ha messa lei eh quella l'ha messa lei ma in tutto questo voglio dirvi che io vi dimostro e c'è la data che la segnalazione l'ho fatta io non la dottoressa Bruzzone lei ha detto che la dottoressa Bruzzone ha chiamato l'ufficio stampa e l'ha fatto rimuovere non è vero ragazzi ma non è vero questo è quanto siccome io devo essere in qualche modo perché l'obiettivo di questa Bugamelli è uno solo ed è questo che io ho messo grandemente in evidenza in tutte le denunce che le ho fatto l'obiettivo è quello di creare delle false accuse contro di me costruite in maniera grottesca esagerata accusarmi di reati assolutamente gravissimi lei fingersi vittima di chissà quali situazioni sopprusi o quant'altro perché l'obiettivo è instigare odio nei miei confronti l'obiettivo è persecutorio prettamente persecutorio lei ha mentito su tutto su qualunque situazione compresa la questione della disponibilità delle foto intime che lei ha pubblicato e che ha venduto perché lei ne ha guadagnato su quelle foto per carità non è un reato ma è un reato accusare qualcuno di aver commesso cose che non l'ha mai fatto io non ho mai pagato foto della Bugamelli per diffonderle ci mancherebbe altro insomma a parte che sono lì per farà ricerca io ho salvato il materiale pubblico perché è tutto pubblico per dimostrare nelle denunce che le ho fatto che erano tutte menzogne le accuse che mi muoveva questo sì io non c'è perché sono pubbliche potrei mettervi i link ce n'è una marea potreste fare tranquillamente se volete andatevela a cercare voi tanto a trovarle ci mettiamo 30 secondi è veramente Pepito sei bugiardo non è vero io l'ho guardato tutto ma scherzi ma sta lì possono andarla a vedere tutti non c'è l'autorizzazione l'ha detto a voce noi c'è perché non esiste uno dei drughi della Ciamelli infatti non ti rispondo neanche più sempre quelli che sono andati a Kiev a fare il salvataggio ricordiamoci il salvataggio nella guerra questo non è questo è qui per rompere le scatole creare disinformazione in linea chiaramente con quelli che ce l'hanno mandato noi non ti blocchiamo Pepito resta qui con noi fino alla fine eccola qua qui c'è un'altra amica qui c'è un'altra amica che parla di Dildoni quindi abbiamo capito chi è e la ignoriamo proprio ai 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 Raffaele cos'è? pensa un po' lo so io non parlo di Dildoni e comunque non sono accostata proprio a niente è Vito alla pastella no ma l'abbiamo capito che sono loro è finito il gin anche stasera è finito il gin dai su vai vai su che poi domani ti devi alzare presto vai su vai a casa torna a casa Raff Virginia torna a casa dai ma poi sempre Virginia mi ricorda ragazzi una roba è fare il post sui Dildoni una roba è accusarci mi pare che è una roba che non fa male alla salute fa male anche dal punto di vista giudiziario dovresti saperlo dai su ciò fate bere un po' di gin però ragazzi dimentichiamoci a Bucamelli perché poi alla fine ragazzi torniamo lì dimentichiamocelo un attimo perché alla fine non vogliamo parlare di quello come si fa a credere a quello che racconta M. Team non servivano le iene per capire che le idiozie erano veramente cioè voi vi rendete conto il caso Biondo che avevano trovato gli assassini è stato archiviato è vero che il GIP ha detto che secondo lui Mario è morto ma non ha parlato né di cellulare 1 né di cellulare quelle consulenze a Palermo non ci sono proprio entrate la signora Biondo è sparita non mette più neanche mi piace non ci siamo capiti è ovvio che abbiamo denunciato è anche che abbiamo denunciato segnaleremo che c'è gente che chiaramente sotto fake cerca di fare casino cioè io non sto a chiacchierare tutto quello che succede lo acquisisco e poi decido cosa segnalare all'autorità giudiziaria e cosa no ma chi avete chi è che ha messo no io non l'ho messo loro non l'hanno messo ma che è sta cosa di WeTransfer non so manco di che parla non esiste ma ragazzi ma anche sta roba del link WeTransfer dove ci sarebbero ma perché ci deve essere un link WeTransfer se sta roba l'ho trovata tutta online l'ho trovata su YouTube ragazzi è su Google ma voglio dire andate su Google ci mettete 30 secondi è tutto pubblico ripeto siccome non mi va di pubblicizzare quella parte lì perché probabilmente insomma è una roba anche un po' un po' così fastidiosa nel senso che è una roba un po' poco dignitosa sotto tanti profondi ma lo avete fatto chi cioè guarda vabbè nessuno l'ha fatto ragazzi avete fatto chi cioè cose parliamo al plurale malistati avete le personalità multiple nella testa capite hai fatto chi sicuramente chi chi ha fatto cosa cioè per lanciare accuse ci vogliono prove siccome prove non possono esistere visto che noi abbiamo fatto nulla del genere se c'è qualcosa contro la Bugamelli credetemi che è roba costruita da Zeppellini per far credere che la Bugamelli sia sotto minaccia la Bugamelli sa benissimo di non essere sotto minaccia fiducia cioè Pepito lo spiega un attimo mi avete fatto tranquilli io me lo devo andare a guardare ci siamo io e l'Abruzzone che ci che sorridiamo e ci divertiamo sotto questo link sei sicuro di questo sì Martina stanno ancora qua però guarda che gli antipsicotici servono eh bisogna prenderli tutti regolarmente però Pepito se mi dà l'indirizzo ho qualche amico l'altro però ragazzi allora voi avete la soluzione del caso no loro dovevano rimuovere i contenuti dal web dice che hanno rimosso quelli di Tiziana Cantone perché il web è tempestato dalle foto della loro diciamo streamer ma non è possibile già da lì non ve le fate due domande non ve le fate due domande com'è che stanno ancora là i contenuti bene abbiamo il video ah vedi 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 che alla fine vedi che lui bene abbiamo il video sì benissimo vedi chi è che parla al plurale My Status ma che video facci capire ah bene siamo felici siamo felici che quale sarebbe il video che non esiste non lo so vabbè cioè il video di cosa siate più specifici perché così la cosa si fa interessare ma che video è perché deridete non deridiamo Chiara ci siamo un po' rotti le scatole di subire una campagna persecutoria ma come Chiara si è arrivata adesso è da due ore che Pepito ci tira scemi quindi abbi pazienza vi sei considerato che se ti fai a fare un giro e nei profili della Bugamelli e nei profili di M Team sostanzialmente da un anno e mezzo c'è un post al giorno quasi contro di me con cose deliranti addirittura dove loro mi forniscono le prove dei crimini che commettono contro di me poi non so tu dopo un anno e mezzo così come saresti oggi ok io voglio fare un applauso a Daniel Colonna di Strias e la Bugamelli minacciata deve stare in America uno come Nicola Gratteri cosa dovrebbe fare che è sotto scorta da 30 anni andare da Elon Musk e farsi spedire su Marte oh grazie però loro non se lo domandano ragazzi ma veramente ma chi sono ma i reati sapete quali sono i reati che ci hanno contestato ah ho capito chi è questo qua questo qui è quello che gli Montevideo quel signore con i capelli rossi che ha denunciato di farse minacce di un sciolipari quando poi quando poi eh sì perché è convinto che io sia leiovine quando poi vi arriva in via giudizio l'avvocato vi chiede 3000 4000 euro solo per guardare il fascicolo e andare a interrogatorio poi pensate direte al PM e me me l'ha detto la Bugamelli che erano loro che avevano gli IP ragazzi dai allora chiara tesoro mio chiara tesoro mio allora ma secondo te posso pure farmi una danza così di risate ma possono mai accusarmi di reati così gravi perché prendo per il culo degli emeriti coglioni che adesso non mi riferisco la Bugamelli in generale in qualche modo fare qualche battuta ok un conto è essere accusati di sequestro di persona cioè di odenti porn di tentato omicidio ok cioè tu chiara tu pensa mettiti un attimo nei nostri panni tu pensa ad un anno e mezzo in cui una un soggetto su cui l'ultimo dei nostri problemi è quello di farle del male perché speriamo che venga in Italia in ottima salute per farsi i processi che la tendono che un anno e mezzo che racconta in giro che noi che no io in particolare con la collaborazione di una serie di soggetti che non la pensano proprio che la minacciamo che la perseguitiamo quando è lei che non fa altro non fa altro chi è che fa i video chi è che fa i post chi è che fa le storie chi è che fa i commenti chi io o loro ti dico una cosa aspetta quanti ne hanno fatti loro andiamo a fare sto conto ragazze andiamo a vedere in un anno che cosa è successo guardate la pagina di M Team parla sempre di noi noi e da un anno che non accennavamo abbiamo fatto una diretta una volta di un'ora e mezza dopo un anno c'è concesso il 29 dicembre 2021 è l'unica diretta che abbiamo fatto oggi è 23 gennaio 2022 loro avranno fatto almeno 15 video esatto ogni giorno ragazzi probabilmente 300 post 300 post proprio contro di me almeno Chiara scusami sì ragazzi ma sapete cos'è l'ultimo un stalking io 400 volte al giorno contatto la Buga Melli non l'ho mai contattata ho fatto tre commenti forse due sotto un post ma in un anno cosa vogliate che siano cioè non esageriamo ma come che chiara scusami Chiara mettete al loop sempre le stesse cose mettete al loop sempre le stesse cose perché sono quattro cazzate Chiara sei andata a vedere sotto il video della Buga Melli gli insulti a Samuel Samuel ve l'abbiamo dimostrato qualcuno gli ha chiesto riconosci la casa quel ragazzo ha risposto lei lo ha accusato pubblicamente di aver organizzato il suo sequestro e quel video lì è pieno di insulti a quel ragazzo con nome e cognome quello vi sembra normale? lasciamo stare noi che abbiamo le spalle larghe ma quello ti sembra normale? e lì lei li mette cioè è scritto là solo un imbecille può pensare che stavano organizzando il suo sequestro e mi dispiace se vi offendete che mette lei a prova del presunto sequestro dimostrano che tutto era tranne un tentativo di sequestro perché ripeto purtroppo per lei probabilmente a furia di estate tutti i giorni con uno che soffre di maniera di persecuzione e delirio persecutorio probabilmente anche lei purtroppo è entrata in questa bolla psicotica perché non c'è altro modo perché ripeto è talmente grave quella accusa è talmente farmeticante a me si priva del benché minimo riscontro ovviamente che farlo pubblicamente in un video che hanno visto migliaia di persone vuol dire essere completamente ormai fuori ma dopo un anno tra l'altro questa cosa è di un anno fa di farmi fare del male tant'è vero che io ho prodotto dei post di suoi follower che instigati da lei con i finti piantini che evidentemente anche su quel punto lì forse la sua carriera diciamo da attrice è finita precocemente forse anche un po' per questo motivo era poco credibile e gente che mi aspettava fuori dalla RAI che diceva di venirmi a cercare fuori dalla RAI che mi voleva all'evento pubblico che c'è stato per Serena Mollicone visto che mi occupo del caso ad Arce mi aspettava per spaccarmi la faccia un'altra scrive proprio in uno di questi ultimi post che se fosse stata nella Bugamelli mi avrebbe crepato la faccia di botte eh sì l'hai denunciato tu Edoardo l'hai denunciato tu sì caro mio l'hai denunciato tu noi sappiamo benissimo che non sono partite da questa parte le minacce stai tranquillo io ci posso fare un libro di minacce che ho ricevuto dietro a sta roba e comunque i commenti andateveli a vedere sono ancora tutti lì io non cancello mai nulla perché quello con me Giovanni ma ce l'abbiamo una chat ce l'abbiamo lo screen dei commenti di Samuel che glielo leggiamo così capiscono che nessuno ha descritto la casa della Bugamelli e come entrare in casa lei dice verbalmente come entrare in casa ragazzi ma come fate di prenderla c'è la chiave e apri la porta come ci entri in casa allora lo riesci a leggere è durante allora lui lo descrivo un po' sbagliato però dico in pratica lui descrive perché quello che vuole far capire è se sta ragazza sia o meno in Italia ma non parla del modo cioè per accedere alla casa di Francesca sicuramente questo no tanto è vero che dopo qualcuno chiede in conclusione cosa pensi si trova in Italia o in USA quindi fa una descrizione dei luoghi dettagliata per vedere se riconosce l'ambiente tutto qui dopo nella domanda cioè glielo chiedono proprio ok e quindi in conclusione lui in pratica che cosa dice dice che ci sono delle cose che glielo ricordano e delle altre no per mandare proprio in confusione ok dice per me sta ancora là e ha fatto tutto sto bordello per confondere le acque ma questa non si è mossa se non di una stanza mi sa cioè ragazzi come si fa dire veramente si valutava secondo voi questa è la prova di un sugestro ma veramente ma ragazzi qual è l'altro posto loro hanno mostrato questo e questo qua è pieno di insulti verso quel ragazzo ma dico io cioè ce l'avete con noi va bene ma che c'è entrato quel ragazzo che un anno fa ha scritto sta storia è di un anno fa questo post e Pepito dopo tesoro amore me lo vado a cercare perché ne ho preso una a casa tanto ragazzi il gruppo è privato non segreto ma figuratevi se si organizza un sequestro ma che ce ne facciamo di sta Francesca Bucamelli ma chi ce lo paga il riscatto ma che devi fare questa cioè veramente ma ragazzi voi siete scoppiati ma fate due più due quattro ma noi sequestriamo la Bucamelli ma per farcene ma vi rendete conto che non abbiamo delle vite pubbliche abbiamo delle famiglie facciamo dei lavori decenti abbiamo degli impegni abbiamo del lavoro abbiamo da fare cioè obiettivamente sequestro della Bucamelli poi se è credibile forse in una un'edizione di Topolino che non hanno scusatemi fate richiesta e entrate nel gruppo fate richiesta e entrate nel gruppo sono contenta che di questa affermazione me ne risponderai perché a parte che non so neanche diciamo però no io ti dico che non non mi appartiene quel profilo però se tu vuoi continuare fai pure dico poi dici che ti hanno rubato la foto vai a denunciare e vedrai se ti danno retta non lo so anche perché dice che ti hanno rubato la foto io non lo so adesso anche tu è una situazione poco carina quindi vai esatto vai risponderai che te l'ha detto la bugamerica è tutto vero è un'ora di vederti davanti a un giudice ok ma lo sapete quando io ho cominciato a capire che erano dei cazzari quelli di MTV quando dicevano che Sant'Annicoro io maresca denunciato che ne ha scritte di tutti i colori contro di me quindi non avrà problemi ragazzi ma ne sono convinto ci vogliono le prove per affermare certe cose cioè tu domani quando verrai chiamato a rispondere di concorso per la diffamazione dei danni della dottoressa Abruzzone perché a me per adesso che mi dici che sono le joven io ti dico di no puoi fare quello che vuoi però quando tu vai a postare il link della dottoressa Abruzzone da qualche parte se ti dico se ti dico che ti ho denunciato è perché la realtà perché ritengo o in chat mandi diciamo o nelle chat di Twitch mandate diciamo la petizione per cacciarla dalla Rai quando il signor Conti che qui emette monta i video della Bugamelli in cui diffama e quello è concorso ragazzi poi la differenza tra voi e la Bugamelli è che la Bugamelli sta in America quindi il processo va avanti ma sei anche te che hai problemi deliranti ma qual è la minaccia io vi sto spiegando come vanno le cose è un fake quindi i fake non hanno diritto di denunciare a meno che non dicono oh guarda invece non mi chiamo Pepito mi chiamo Pippo però ragazzi dovete avere le prove quelle vere non quelle fasulle perché non poi non potete andare a dire io sono convinto che aveva ragione quindi mi dispiace tanto non ti stiamo minacciando tu sei un povero imbecille che non ha manco il coraggio di metterci la fatta ma dov'è questa petizione per far licenziare la Bugamelli questa è la prima volta che la leggo ma dov'è assunta ma quale lavoro avrebbe sapato ma quale lavoro avrebbe ma l'assunta di che ma di che stai parlando ragazzi ma qui stiamo O.L. Iovi Neosantanico tutti siamo tutti la stessa cosa Gesuis Santanico Gesuis per far licenziare Bugamelli ma quando ma ma da dove la devi pronunciare la Bugamelli io 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 una cosa l'ho fatta io ho fatto ho fatto togliere il video così sono entrate in contatto diciamo perché sono state tirate mezzo un anno fa ma guarda che il canale bisogna avere un lavoro e essere assunti non ci risulta che la Bugamelli sia assunta da alcunché ora se è assunta da qualcuno cioè c'è un regolare contratto di assunzione bene mostratecelo siamo disponibilissimi ma dov'è la petizione ragazzi ma loro parlano del canale di Twitch ma io voglio che chiuda ora quel canale perché se lei è su quel canale deve andare a sputtanarmi con la mia faccia ad accusarmi di cose ma deve chiudere ora il canale ora lo deve chiudere è certo che deve essere chiuso ci mancherebbe deve chiudere ora il canale ma guarda io non lo so per difamare e perseguitare le persone ci manca solo che uno non chieda che venga chiuso ma è il minimo ma è il minimo ma nella Twitch è una delle chiese però Pepito mettice la sta petizione qua io so che la petizione l'hanno fatta su Twitch e poi tra l'altro uno di questi ragazzi poi un altro soggetto che anche lui è stato denunciato che volevano un anno fa che io venissi mandata via dalla RAI quella è tutta è tutta già documentata lo avete fatto o basta però non me la posti quella la puoi mettere no? vedi questo? però vi è andata male ma dov'è ragazzi? no il canale non l'ho segnalato perché mi serve per il processo quindi non ho ancora segnalato un bel cazzo ho solo segnalato che cosa c'è chiara ma io veramente sono così che gli vengono a chiedere di mettere cose vabbè vabbè ma la petizione la petizione per chi per far licenziare la prima come faccia a metterla lì? dammi le credenziali per la tua no scrivila la petizione lo puoi mettere il link non ti banna nessuno dov'è ecco bravo ma che ne no io ho chiesto di metterla perché io onestamente è la prima volta che leggo di una petizione è qua non solo devono aprire il canale ma devono proprio arrestare da lei e Zeppellini beh a questo punto diciamo piangeranno diciamo quantomeno per Zeppellini per lei se viene in Italia sicuramente potremo parlare di un bel po' di cosette insomma speriamo che torni perché insomma ci stanno ci stanno un sacco di cose che lei potrebbe aiutarci ah ecco la petizione chi l'ha fatta io me l'ero dimenticata grazie fermiamo i truffatori di Mteam però siamo tutti la stessa cosa avevamo fatto una petizione per farle bannare dalla Twitch null'altro che poi è stata buttata giù poco dopo io neanche me ne sono accorta però siamo tutti la stessa grazie fermiamo a Mteam per aver chiarito questa cosa siamo stati noi è un comportamento serio vabbè mi sento mi sento di dire a loro che purtroppo questa è davvero una speranza di finire male ragazzi noi non volevamo però l'obiettivo è quello è chiaro chiarissimo ma noi non volevamo neanche parlare della Bugamelli vi stavamo parlando di Zeppellini perché noi continuiamo a dirvi che a noi della Bugamelli non ce ne frega assolutamente niente ok non è poco niente a me il problema di Twitch di questa ragazza è semplicemente che usa il suo canale per diffamarmi e perseguitarmi e di mettere tirare in mezzo le persone a caso ragazzi un anno fa ha detto che io ha messo io non sapevo neanche chi fosse ha messo la mia foto sulla sua live Bruzzonegate e ha detto che io sono stata denunciata perché ho falsificato dei documenti federali non dei documenti presi a caso dei documenti federali al che io ho fatto una cosa molto semplice scusa perché ho mandato ho mandato una segnalazione a Youtube mettendo guardate c'è la mia foto io sono Monica Demma io non gli ho dato l'autorizzazione dice che ho fatto dei documenti federali lì terapeuta guarda per te non sono abbastanza brava ma se sei bisogno di un bravo psicoterapeuta te lo consiglio guarda Pepito e quindi avendo fatto e quindi questo video è stato scurato in Italia perché era diffamante secondo Youtube e secondo me no ma l'ho fatto io e no l'Abruzzone mi ha buttato giù il video su Youtube no sono stata io come oggi la segnalazione all'arma dei carabinieri è stata lei no sono stata io ve l'ho dimostrato come vedi perché benché tu dica ora stasera vi dediciamo un po' di tempo perché l'abbiamo un po' ritagliato in mezzo a tanti impegni e tante cose importanti che dobbiamo fare vi stiamo facendo una grossa cortesia a darvi un po' di tempo ma non per altro per spiegare la follia che purtroppo vi governa l'ossessione che purtroppo vi governa non lo dicono noi ci mettiamo la faccia che prima stavano dalla vostra parte hanno capito che siete un manipolo di pazzi di squilibrati pericolosi ora fate tutto quello che volete tanto ne risponderete davanti a un giudice verrete qui vi farete processare dai reperibili non ci cambia granché a me interessa che un giudice valuti le vostre condotte come per quelle che sono cioè dei crimini in maniera continuativa dopodiché ci sarete non ci sarete problemi vostri se uno sceglie di vivere una vita dall'attitante problemi suoi non è un problema che mi riguarda a me interessa che la magistratura possa fare le sue valutazioni con la massima serenità ma poi ragazzi se non ci sarete problemi vostri però posso farvi una domanda c'è l'avvocato Catani di soggetti di cui non conoscete il volto cioè non sapete veramente effetti voi dite non c'è questo Mirko Zeppellini ok però non sapete chi c'è dietro su MTI cioè il finale del nulla noi siamo qui a metterci la faccia non vi abbiamo bloccato magari ma non si fanno domande ma sfido chiunque no? a subire dopo più di un anno non si fanno domande non mi chiedete delle cose perché non mi fate delle domande avete paura di perdere l'amicizia con la muta fate qualche domanda cioè chiedete perché l'hai denunciato effettivamente per esempio nel mio caso perché io ancora ho difficoltà a capire la denuncia l'angello cioè mostratele questi post questi scritti io sfido chiunque a trovarli non ne troverete perché sono sicuro di quello che non ho fatto nessuno ti sta dicendo che tu ci hai diffamato non abbiamo mai detto questo anzi noi siamo disponibilissimi a chiarire con te cioè non ci stanno altri hanno diffamato noi no ma io non parlavamo di te ci hanno accusato in maniera delirante non credo che ti ci voglia molto a verificare ma con chi sta parlando eh Edoardo con me parla io ho paura senza l'avruzione ma l'avete pepito devi andare dallo psichiatra te l'ho detto pepito devi andarci devi andarci velocemente guarda che è un buon consiglio eh pepito e anche magari metterti un po' a dieta che secondo me potrebbe servire anche un po' quello ma pepito devi andare dallo psichiatra tu non stai bene e ora dice Giovanni mi ha diffamato no il problema è che se tu devi venire qua e te le tiri e te le tiri se puoi essere diffamato da me devi venire qua con la tua faccettina capito? allora venire qua questo è un psicologo rispetto vai dallo psichiatra e tu dici ah mi ha diffamato ma finché vieni qua come un topino di fogna a rosicchiare qualche cosina nascondendoti purtroppo non puoi non puoi denunciare perché i fake non possono essere diffamati mi dispiace tanto ti ho dato anche una lezione di diritto gratis dai più che pazzo ah spero guarda è bellissimo ma io da fake posso essere diffamato vediamo un po' cosa ti rispondono voi siete convinti che una persona cos'è e insistete beh tu che hai fatto tutta la sera che continui wow però te l'ho detto la cosa più grave che hai fatto è quella denuncia che ti costerà che ti costerà posso spiegare una cosa a Chiara G allora Chiara G prima quando spiegavo del fatto che ognuno si assume le proprie responsabilità era in generale poi eri tu in quel momento ma non mi riferivo a te nel senso che spiegavo che se si fanno le accuse comuni a tutti poi ovviamente ne rispondo perché sono accuse gravi cioè vengo accusato di revenge porn quant'altro non mi riferivo a te non ti denuncio tentato sequestro tentato omicidio atti persecutori revenge porn e una marea di altre minchiate che tu ne avresti che tu ne avresti basta c'è ogni giorno devi svegliare con loro ma questi non lavorano hanno i casi ma perché ogni giorno un cazzo dalla mattina alla sera e passano la loro vita a cercare di inventarsi situazioni per cercare di rompere le scatole principalmente a me poi non solo a me ma principalmente a me questa è la loro unica occupazione anche perché fortunatamente la maggior parte ormai dei casi che avevano per fortuna sono saltati perché queste famiglie si sono accorte che erano prese pesantemente in giro e che erano truffate e lucrate sulla loro disperazione quindi per fortuna ora il tempo lo possono anche passare a cercare di prendere a bersaglio me ok per certi versi mi solleva perché vuol dire che non riescono più ad avere tempo e modo di truffare qualcun altro quindi ne sono perfettamente felice in questa prospettiva è un segno che evidentemente l'obiettivo di smascherare questo pericoloso truffatore criminale psicopatico seriale è riuscito e questo francamente è quello che mi dà maggiormente soddisfazione in tutto questo del resto ripeto io non vedo l'ora di parlarne davanti a un giudice anche perché io stasera sono qua ci ho messo la faccia vi ho fatto vedere alcune cose tante altre chiaramente ce l'ha la magistratura e molte altre ce le avrà a breve ma cioè se avete così tanta sicurezza della fondatezza delle vostre valutazioni delle vostre segnalazioni perché non aspettate di vederci davanti a un giudice perché non aspettate quella sede che problema se siete così convinti della bontà delle vostre affermazioni io sono convinta della bontà delle accuse commosso e penso anche di averle riscontrate se voi avete la medesima convinzione genuinamente venite a Roma procura di Roma venite ci vediamo lì che problema c'è e gliene parliamo quanto volete ma davanti a un giudice con la massima serenità venite tornate io voglio tornate col culino qua tornate qui Mirko Zeppellini torna in Italia il processo sta per cominciare perché non torni torna qui difenditi dimostra che non è vero che sei un delinquente seriale squalo sciacallo del cazzo vieni in Italia fatti vivo qui venite a cercarmi qui ok almeno così la chiudiamo sta storia andiamo davanti a un giudice e lì dimostrerai che abbiamo raccontato minchiate ma solo davanti a un giudice la puoi fare è libera la bugamelia Chiara scusami io ti voglio rispondere a questa cosa prendete in giro ora io con la buona intenzione di questo mondo vi hanno detto che da un IP di sei anni prima si può risalire all'utilizzatore in Spagna dopo sei anni e ci avete creduto vi dicono che possiamo recuperare le foto dei satelliti dopo tre anni dagli Stati Uniti d'America vi dicono che voi siete diffamati qua e con una denuncia con la legge della Corte Europea potete ottenere gli IP dagli Stati Uniti vi dicono che potete cancellare i contenuti dal web vi dicono che Mario Biondo è stato ucciso e hanno trovato due nomi e li hanno consegnati in procura che quello è così che quell'altro è così tutti i casi non manco me li ricordo i casi sono stati archivietti tutti quelle sono balle spaziali e voi non vi fate una domanda su M Team voi non ve lo se ragionate per assurdo un attimo se noi vi stiamo dicendo la verità e quindi questa Francesca si trova con questo pazzo scatenato che sta perdendo pezzi perché i clienti scarseggiano ma è in pericolo secondo voi in Italia o negli Stati Uniti d'America perché voi questa responsabilità non ve la siete presa voi non ve la prendete questa cosa perché se voi vorreste bene a Francesca e siete i suoi follower dovreste dirgli ma torna in Italia perché non mostrano Zeppellini perché non mai anche dopo le Iene non hanno fatto un comunicato fatemi capire dal marzo del 2021 noi stiamo dicendo con le Iene che Zeppellini e Mirko che Peschiera M Team e Mirko Zeppellini ok la Bugameli dice no ma Zeppellini è in Italia però non si mostra perché poi vorrà fare una maxi causa tutti questi cattivi e brutti che gli dicono di tutto perché saranno un milione di euro ancora stiamo a aspettare questa maxi causa con 700 hanno fatto Marinelli dov'è Marinelli stiamo aspettando su 700 che arriva deve essere un 700 abbastanza così di quelli di quelli un po' rallentati ancora stiamo aspettando ma voglio dire mostratecelo ci fate vedere Mirko Zeppellini e ci dite guardate non avete capito un cazzo questo è Mirko Zeppellini ma poi lavorano stanno fissi a rispondere a commenti stanno aspettando questo momento ci fate vedere questo famoso Zeppellini come mai Zeppellini dopo che è successo il pastrocchio delle Iene che è successo l'apocalisse perché finalmente la sua faccia è stata mostrata a tutto il mondo bene subito dopo alle madri perché ce l'ha raccontato lui è diventato ancora più aggressivo ancora facevano domande diventava una bestia e non si è mai mostrato a nessuno addirittura controllava le madri se aveva qualcuno intorno quando c'erano le chat dove lui non si mostrava o le chiamate con Skype dove non si mostrava ma voleva vedere tutta la stanza intorno alla madre con cui parlava per quale motivo se non è lui c'è tutta questa riservatezza enorme sulla faccia di questa persona sapete cosa ha detto la Mary Diessa la Mary Coce la mamma di Giulio di Sabatino che non poteva mostrargli la faccia perché lui è un investigatore che lavora contro la mafia e quindi rischiava che se mostrava la faccia a lei poi sarebbero andate a casa sua di lei a rapirla per costringerla a descrivere la faccia di questo imbecille cioè rendiamoci conto ragazzi ma voi che eravate così vicini se non sei John Peschiera perché non ti palesi esatto se non sei John Peschiera l'ho già detto se non sei John Peschiera hai una straordinaria somiglianza ma se non sei John Peschiera io non ci credo mai palesati dici oh io sto qua sto a Bresto sto a mangiare la pizza con la birra sulle patatine sto qua non c'entro niente perché non lo fai dopo un anno e mezzo perché non mi denunci fammi causa per difamazione dai fai togliere il video delle iene che sta ancora là come mai il video delle iene è ancora esattamente al suo posto eh i milioni i milioni la buca me li ha raccontato nei milioni come mai se non sei tu Zeppellini facca l'esati mostrati vedo vedete che ci sbagliamo Edo ascoltami ti rispondo non essere volgari io sarei onorata qualora fosse così che obbedisco agli ordini della dottoressa Bruzzone sono onorata tu rispondi non si palesa si prende la marea non si palesa perché glielo ho ordinato io guarda che non si palesa no 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 un altro discorso io e Giovanni è irreperibile è stato cercato su tutto il territorio italiano è irreperibile c'è un decreto di un giudice che dice che non è su territorio italiano e che non si trova è irreperibile e tale verrà processato come tale verrà processato perché anche l'irreperibilità non ti salva dal processo ti viene nominato un avvocato d'ufficio non ti difendi e il processo va avanti lo stesso quindi verrà processato da irreperibile ma guarda un po' è stato cercato comunque lui in Italia non c'è allora prende fiato è arrabbiata però ti dico una cosa ti dover risposta penso che posso parlare no aspetta no 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 io gliela voglio dare questa risposta scusami Roberta io ti rispondo credo anche a nome di Giovanni a eseguire gli ordini come dici tu della dottoressa Abruzzone io e Giovanni possiamo solo essere onorati ok perché la persona che è voi non lo conoscete ma che tu vieni qua da tirapiedi di Francesca Bugamelli ragazzi di che parliamo per quattro video che gli fai o per quattro foto che ti avrà ceduto su OnlyFans ti sei dovuto devoto a vita cioè tra l'altro io non mi metto nei guai tu sì perché tu verrai chiamato ti arriverà la notifica prima o poi e dovrai cercarti un avvocato e non è una minaccia è quello che ti sto raccontando tu ci rimetterai soldi per questa storia capisci? quindi però vabbè continuo la batossa sai qual è che ovviamente noi conosciamo già il finale noi siamo qua perché ripeto da oltre un anno io direi quotidianamente pressoché subiamo diffamazioni calugne persecuzioni di ogni minacce di ogni genere da un anno e mezzo come minimo ok quotidiane ora se queste persone sono così sicure del fatto loro perché Zeppellini si deve inventare una mail farlocca spacciarsi per la Rai e segnalarmi dei video per cercare di farmi chiudere il canale e invastire una falsa campagna diffamatoria sostenendo che io avrei rubato i video alla Rai per quale motivo di fare così nel giusto hai bisogno di commettere crimini e peraltro fornendomene anche la prova per cercare di danneggiarmi e perché hanno scelto di collaborare con tutti i casi in cui tu ci stavi tu che lo dice anche casualità casualità quindi i casi dove io ho fatto il mio e chiaramente la situazione poi magari non si è non ha portato il risultato che la famiglia sperava ma con la massima serenità tant'è vero che Mary dice io ma è solo che hai fatto del bene per cui quando lui cerca di convincerla a denunciarmi ovviamente lei si prende ecco ma ci sono le prove l'ha visto l'obiettivo voi non lo capite l'obiettivo era cercare madri disperate che avessero in qualche modo avuto a che fare con me perché la sua ossessione era quella di cercare di danneggiare me e purtroppo è ancora un'ossessione che vedo non ha risolto probabilmente è entrato alla terapia comunque l'ha visto in faccia semplicemente per mezzo anno poi se c'è qualcuno che ascolta gli ordini scusate se non mi faccio mai viva qua dentro ma sapete è veramente difficile ecco chi ascolta gli ordini questo qui che scrive questo qui che scrive comunque volevo chiedervi una cortesia sta davvero succedendo il bordello e se ce la facciamo da internet riusciamo veramente a buttare giù sta stronza quindi io vi chiederei la cortesia so che è una rottura di palle ma davvero per combattere il cyberbullismo questo è altro quindi vi rompo le palle condividete questi screen ovunque ovunque cioè se avete community gruppi fatelo sapere al mondo fate incazzare il mondo perché adesso noi dal basso rompiamo i coglioni boomer di merda ignoranti un vero e proprio commando però chiedete il rispetto ragazzi lei mi rassicura comunque mi rassicura però chiedete il rispetto voi siete giovani ragazzi però non meno male che è Sant'Anico che minacce e quant'altro ripeto non so chi sia Sant'Anico ma certamente ha i suoi buoni motivi per puntare certa gente perché ha un certo fiuto per i delinquenti devo dire e non solo per questo tipo di vicenda quindi evidentemente lamentarsi di Sant'Anico è comodo ma Sant'Anico fa il suo perché ha un suo senso in qualche modo di giustizia e si è appuntato questi due evidentemente perché ha le sue buone ragioni non sappiamo chi sia non ne ho idea quindi diciamo anche per l'altra lì la super ansiosa mitomane che conosciamo che io non ho idea di chi sia Sant'Anico ma è bella l'ha nominata neanche lo voglio sapere non ho mai voluto saperlo ragazzi non lo conosciamo voglio avere un risorto io non lo so chi è però sicuramente è una persona che fa delle scelte e se fa delle scelte ha le sue buone ragioni non so chi sia e neanche lo voglio sapere non lo vogliamo sapere io lo conosco solo virtualmente perché lo leggo perché io non so chi è non l'ho mai saputo e mai lo vorrò sapere se qualcuno cerca Sant'Anico se lo deve trovare poi i fatti suoi perché io non ho proprio nessuna informazione da fornire idem anche perché Sant'Anico beh io l'ho visto già in qualche altro caso questo Sant'Anico quindi è una conoscenza virtuale e ha sempre beccato diciamo il lato giusto delle storie voglio dire ed è una persona che non si è mai permessa di essere invadente di scrivere di contattare in realtà quindi inizialmente era stato attribuito a noi il suo Sant'Anico io da lì ho capito che M.T.M. non sapeva fare nulla perché l'ho attribuito a me quindi una volta che io ho visto che M.T.M. aveva attribuito Sant'Anico a me ho detto vabbè questi insanno quella lì per noi è stata la prova provata non che ce ne fosse ulteriormente bisogno che questo non ci capisce niente lui ci capisce di copia e incolla modifiche sostituzione di persona fake questa roba qua mi farlocchi timbi fra l'occhi non mi farlocchi questa roba qua sì ma sul web per quello allora non è che sarà la parte nostra ci siamo trovati dalla stessa parte che è ben diverso come è capitato anche in altri casi in altre occasioni non è che ci siamo equalizzati ci siamo uniti la pensiamo uguale come può essere in tanti altri casi di cronaca io alcune cose non le condivido ad esempio quando si accendono alcuni toni io assolutamente non li condivido e non mi ritrovo a commentare perché poi Sant'Anico e le io e questa gente qui quando perde le staffe magari ci va giù pesante io questo lo riconosco però dall'altra parte non è che ci vanno meno quando hanno mostrato tutti scrive qualcun altro esatto dico però cioè no 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 però per dire quando Bugamelli ha mostrato i commenti di Sant'Anico contro la biondo cioè ma non è che voi non avete letto però di twitter di tutte le addette dei biondo cioè se le sono divise sono cose praticamente incresciose che io magari nei confronti di una persona che ha perso il figlio non l'avrei fatto per carità però non è che uno esce pazzo il giorno e insulta la gente questi audio e ringrazio molto Zeppellini per averli pubblicati perché si tratta di conversazioni private tra me e lui quindi lui ha commesso un altro reato divulgandoli quindi benvenga ma soprattutto ha commesso un'altra cosa che è veramente straordinaria cioè ha fornito la prova provata non che ve ne fosse bisogno ma è sempre uno in più che davvero io dialogavo con lui che dialogavo con Mirko Zeppellini perché quella lì è una chat tra me e John Peschiera e l'unica cosa che dimostra chiaramente che è una diciamo che lui ce l'ha e quindi è lui e John Peschiera e Zeppellini è la stessa persona quindi grazie Mirko per questo ulteriore regalo io come libro in conversazioni private per quello che mi riguarda non c'è nulla di difamatorio perché siamo due persone uno con l'altro che parlano per cui possono essere possono essere valutazioni che possono essere in qualche modo fastidiose ma certamente non c'è nulla di difamatorio perché non è che lo rivolca altrove o lo diffuse lui le ha diffuse quindi se si becca la denuncia dalla barra o da quant'altro è lui perché io non ho diffuso proprio niente proprio niente anzi provano ulteriormente che io e lui davvero eravamo in contatto che quindi quando riconosco la sua faccia in quella di Mirko Zeppellini c'è ragione infatti ma te l'ha detto Pepito ma ma Edo sta diventando proprio come Zeppellini ma cominciai ovviamente ho anche io quindi è la prova provata ulteriore che lui è Mirko Zeppellini ma sei tardo certo che l'ha detto te l'ha detto sei tardo proprio qua sta diventando come Zepp guarda sta diventando come Zepp ossessivo sto dicendo che quelle cose le ho dette io non mi nascondo dietro un dito quelle cose le ho dette a Mirko Zeppellini due persone io e lui e basta quindi non c'è nulla di difamatorio la parte difamatoria è la sua che ha divulgato dei video degli audio privati che erano tra me e lui di quattro anni fa pensa quanto è disperato da quanto è andato a cercare nel fondo del barile quanto è disperato perché quando abbiamo dato la notizia che oggi avremmo fatto la diretta era talmente disperato che è andata a rivedersi in la chat dei quattro anni fa che ho anch'io quindi posso dimostrare che è la stessa chat quindi è un'ulteriore riprova che Mirko Zeppellini e John Peschiera sono la stessa persona quindi grazie Mirko per avermi ulteriormente dimostrato che sei un emerito idiota sei veramente un emerito idiota Your Voice Matters mi dispiace fatene una ragione perché la vedrai ancora pazienza no no rispondevo qua che vorrebbe non vederti il Rai però pazienza c'è il domando usa la facoltà ce l'hai il pollice opponibile non ti funziona ma manco quello fai tranquillamente tranquillamente e cambi e non è difficile secondo me ce la puoi fare anche te ma no ma ragazzi non crede che ci sia troppa animosità forse non ci siamo capiti ragazzi ma voi avete idea di che cosa vuol dire tutti i giorni con questi qua attaccati al collo che cercano in tutti i modi di stigare qualche psicopatico tra quelli che li seguono avete notato che più di qualche psicopatico li segue perché Pepito lì Pepito One Man Show e quell'altro sono due psicopatici chiaramente quindi due così sono perfettamente in grado di venire a cercare trovare meno non è difficile quindi è chiaro perché è chiaro che sono molto preoccupata perché è ovvio che l'obiettivo è portare qualcuno di questi squilibrati a farmi del male è chiarissimo anche perché è una condizione che subiamo danni perché non pensate che non abbiamo capitato che di fianco all'Mteam si sia alleato qualche nostro vecchio amico diciamo così no? alcuni screen alcune cose quindi è offeso Pepito però è così se tu vai da uno psichiatra ti siedi davanti a uno psichiatra e ci chiacchieri è che te lo dici anche lo psichiatra che non stai bene e da te gli devo fare una diagnosi veloce ma diciamo abbastanza centrata direi abbi pazienza ma ti sei dimostrato davanti a tutti non è che un fake diciamo che non gode della mia simpatia esatto io nel bene e nel male la faccia ce la metto sempre non ho fake non ho mai avuto fake e mi rifiuto proprio neanche di concepire l'idea esatto quello che non mi appartiene sono qua ci metto la faccia può andare bene o può andare male io mi assumo le mie responsabilità e voglio dialogare con gente che ha lo stesso livello di coerenza quelli che si nascondono per me sono dei topi di fogna Chiara però tu hai un problema sono loro che si ridicolizzano adesso però ti devo rispondere ma tu ascolti noi ma non leggi quello che fanno ma veramente però con tutta la gentilezza del mondo poi dice che non ci arrivano perché continuate a ridicolizzare ma lo vedi cosa fanno stanno là a ripetere la stessa cosa la campana rotta si chiama Pepito venga qua e si è preso anche su serio fammi capire leggimi i commenti che ci ha fatto prima ma io non lo so io lo devo prendere su serio apri pazienza Chiara ma dai già sai che non l'abbiamo bloccato ma sì veramente già sai non l'abbiamo neanche bloccato ma no ma per dirgli proprio che tanto è inutile abbiamo cercato di dare spiegazioni gli amichetti tuoi per chiedergli mezza roba già ci hanno bloccato si sono inventati ma no ma non solo poi ti risponde ma le prove ve le ho mostrate ma che cosa ha fatto un'ora e mezza di video a leggere i commenti di Mteam i comunicati stampa della sua di che i comunicati di Facebook i post di Facebook sono i comunicati stampa ma quale stampa raga ma ve la fate le domande mo la Rai mo la Abruzzone comanda il Rai e quindi Mteam non le invitano in Rai perché l'Abruzzone dice di no e Mediaset e la Sette e i giornali fatemi capire ma la padrona del mondo è arrivata ma perché non ve la fate una domanda mamma mia che potere che mi attribuite ragazzi è quasi così in ghiera la questione cioè davvero insomma cioè veramente ragazzi ma fatevele le domande mi sembra normale mi sembra credibile che io possa avere un potere del genere davvero ma 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 no veramente veramente no ragazzi questo non ti sembra ridicolizzare eh no questo è uno dei tanti commenti eh questo è uno dei tanti commenti Chiara Chiara tu sei qui per la verità no? rispondi tu a Pepito quindi secondo me forse mentre mangiavi avevi la testa abbassata nel piatto non li hai letti tutti lasci una mano Chiara rispondi tu a Pepito perché Pepito non ci arriva il povero Pepito non ce la fa Pepito è proprio tanto 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 limitato eh Pepito mamma mia povero Pepito sei messo proprio male eh Pepito Pepito qui la parte lesa non sono io quindi la dottoressa Bruzzone è semplicemente arrabbiata e quindi è chiaro perché se poi vive queste cose è chiaro voi poi cerca di spiegarvelo e voi vi comportate in questo modo quindi parla e per lei a me alla fine guarda a parte che mi dite guarda Monica io vivo perennemente guardandomi le spalle eh beh cioè ragazzi perché io veramente ho il timore e è fondato che qualcuno di questi squilibrati mi venga a cercare perché quella racconta delle cose talmente folli che purtroppo ovviamente cioè quale può essere l'obiettivo di raccontare cose che sono chiaramente false chiaramente perché è proprio falso cioè non c'è né A né B è falso perché se anche ci fosse stato qualcosa di mezzo vero sulla richiesta sulla accusa di sequestro di persona saremo tutti già in gabbia no ha bloccato il codice rosso ragazzi ma pure quello che dice ho denunciato per codice rosso guarda che il codice rosso è una procedura non è un reato cioè le basi proprio ragazzi il codice rosso a questa signora non può essere stato applicato perché se fosse stato applicato intanto avrebbe dovuto essere sentita qui qui in Italia entro 3-4 giorni dal deposito della denuncia è tornata non gli fanno l'arrogatoria per sentire la bugamella in codice rosso dove sta dove stanno diciamo la procedura l'applicazione della procedura poi in codice rosso ed è un anno e mezzo due che nessuno di noi ha mai ricevuto mezza notifica che il codice rosso è a me è riempirvi la bocca con della roba che evidentemente non conoscete perché uno che dice si è denunciato per codice rosso il codice rosso non è un reato eh ma lucifero poi fanno fanno chiamare gli avvocati poi perché poi si vogliono accordare perché poi vanno gli avvocati e dicono ma tu che hai fatto oh ma a me me l'ha detto mteam c'aveva le prove c'aveva gli ip io ho creduto a mteam e poi lo vanno a raccontare e poi lo vanno a raccontare poi basta ragazzi fatevi un dubbio voi non dovete credere a noi ma ce l'avrete un amico un amico avvocato ce l'avete un amico avvocato può dare qualche indicazione uno uno andate da qualcuno che davvero fa l'avvocato comunque di questa roba ne capisce e gli spiegate senti ma ti sembra verosimile questo 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 ora il codice rosso io lo so perché a me è stato applicato peraltro nel delirante post che hanno fatto oggi contro di me con gli audio parlano addirittura che io che sarebbero degli audio contro un'avvocatessa di cui io parlerai male ebbene questa avvocatessa che si chiama Maria Rita Antonietta la Bianca detta Antonella è una signora tanto la notizia è pubblica quindi non vi sto dicendo nulla di segreto è sotto processo per altri persecutori nei confronti a marzo ci sarà la prima udienza e ha un'altra richiesta di rivia giudizio pendente che si discuterà ad aprile il 4 di aprile sempre per altri persecutori nei miei confronti due procedimenti uno è già processo e l'altro c'è una richiesta di rivia giudizio beh sembra normale io sarei quella che danneggia questa persona e vogliamo dire anche che uno dei fake che andava ad insultare è stato riconosciuto grazie a come scriveva sì sì no no la procura sta già indagando per un altro soggetto sempre legato a loro che è un altro soggetto che ha già diciamo dei guai giudiziari con me in altre sedi che adesso è a un 415 bis mi hanno applicato il codice rosso per atti persecutori molto gravi con diversi aggravanti e chiaramente questa cosa è molto recente ma quando ti applicano il codice rosso ti chiamano ti comunicano che ti è stato applicato il codice rosso ti danno il numero di procedimento e ti sentono a integrazione entro tre giorni qui ci siamo se non il codice rosso non c'è ragazzi ma la volete sapere la barzelletta la barzelletta di questo qui la volete sapere senza fare nomi e cognomi che questo qui ci ha dato i soldi a M-Team per farsi trovare le prove che dietro Sant'Anico c'era la dottoressa Bruzzone e prima con i fake è venuto a dire che ci aveva dato i soldi e poi sempre con lo stesso fake è venuto a raccontare nei vari commenti a scrivere in privato che era riuscito a farsi ridare i soldi perché aveva capito che quindi diciamo vedete la situazione borderline da una parte doveva insultare la dottoressa Bruzzone dall'altra però doveva dirvi che effettivamente M-Team l'aveva truffato quindi rendiamoci conto questa persona che adesso si ritrova all'ennesimo procedimento alla fine si è esaltato proprio nella barahonda di M-Team e Bugamelli ha pensato di venire lì e metterci la sua parte e si ritrova di nuovo con i problemi che è un po' quello che accadrà ma ripeto stasera c'era anche la diretta dell'avvocato Catania che sicuramente vi darà delle spiegazioni Lucio Lipari uno stalker che invece lo sta chiamando guarda qua no no ma infatti ma poi lo fai in un esempio non avete il terrore come mai lo vai a cercare Pepito tu hai paura non ce l'hai di Lipari se lo vieni a cercare qua giusto? quindi tutto questo è buono Lipari forse è buono che dici tanta paura poi lo viene a cercare lo vai a estigare e non te la non ti ho spiegato la roba che non va tanto bene è strano perché siamo gli stalker ci cercano perché una cosa è reato di calunnia una cosa è reato di calunnia una cosa è la persecuzione in continuazione del presunto stalker in continuazione c'è qualcosa che non va ok? poi una cosa ragazzi per chiarire noi non ci sottraiamo un bel nulla cioè noi lo vogliamo il processo un qualcosa che vada a chiarire le posizioni cioè questo lo abbiamo ribadito in tutta la diretta cioè non vediamo l'ora che si arrivi a mettere nero su bianco tutto quello che è successo certo poi ovviamente se la materia sulla quale lavorare è quella che stiamo vedendo stasera non la capire né oggi né mai perché purtroppo il substrato viene ammattato ah qui ragazzi volevate sapere dove è Sant'Anico eccolo qua Sant'Anico perché l'hanno buttato giù ma lui non è che si nasconde ecco qua salutate Sant'Anico perché ti hanno nominato a tre ore ti ho passato la password quattro ore fa ora entri o Sant'Anico che lui fa Sant'Anico Sant'Anico mamma mia tu sei veramente chiunque tu sia sei veramente la persona più citata in queste dei fatti seriamente preoccupare Zeppellini ancora adesso ti sta andando a cercare e non c'è riuscito e non solo come vedete ragazzi io sto qua guarda le mani guarda le mani guarda le mani le mani abbiamo passato le password il password il password il password guardate le mie manine eh però manca il Leiovine sono io mannaggia ah non scrive non scrive mamma mia guarda mi spiace per voi ma se questa è l'abilità informatica del vostro supereroide insomma del pifero con Sant'Anico che è ancora qui tra di noi per dimostrare tutte le accuse false è così eh ma è un'ora che parliamo anche con te Pepito adesso l'abbiamo anche raccontato sei chiaramente un fake non capito cioè scottessi con Alidor no cioè per quale motivo che cosa facciamo a dire adesso Pepì oh sei ginocchio è un'ora che parlo con te ma parlo con i fake certo parlo con te che cosa sei tu fammi capire perché non posso capire perché per quanto tu possa avere avuto un'infanzia difficile non penso che i tuoi genitori ti abbiano chiamato Pepito davvero ok per quanto magari probabilmente insomma no qualche problematica infantile non risolta la intravedo ma non credo che possano avverti chiamato così davvero no quindi parlo con Sant'Anico parlo con chi mi pare parlo con te parlo anche con Sant'Anico parlo con con chiunque mi pare e ancora non è un reato giusto sì vabbè ma stai insultando un fake al massimo perché non fake ragazzi insultare un fake è fantastico non ti può neanche denunciare che problema c'è certo che ti sto insultando Pepito ti sto insultando sì ti sto insultando perché sei un fake e quindi sei un vigliacco e i vigliacchi meritano di essere trattati a pezzi in faccia abito in senso questo è il presupposto della mia vita ma lo faccio in tutti gli ambiti i vigliacchi vanno presi a pezzi in faccia e i vigliacchi appartiene alla categoria e quindi non te la prendi non ti sto offendendo ti sto descrivendo eh eh Pepi caro Pepi vuoi un trattamento diverso mettici la faccia mettici la faccetta e a quel punto avrai anche un trattamento decisamente magari sto Pepito beh io penso proprio che hai ragione Lucifero secondo me ha seguito sì sì che poi io non ho fatto subito suo bulismo non voglio lanciarlo in questa cosa sicuramente è una persona che avrebbe bisogno di aiuto psichiatrico questo è una cosa ma come tutti quelli che vivono nascosti come topi di fonia quelli che hanno bisogno di proteggersi per fare per rompere le scatole agli altri per molestare gli altri per disturbare gli altri questi per me sono un po' tutti squilibrati cioè una persona sana con una vita qualitativa non ha bisogno di mettersi dietro un fake a rompere il boglione al prossimo credo no? quindi è già una definizione di per sé abbastanza facile da avere cioè nel momento in cui sei un fake se poi la gente ti tratta pesce in faccia è normale no? eh quanto meno poi non bisogna di tirarsi addorso queste grandi storie che non esistono no? perché poi se noi prima stavo dicendo ne conosciamo poi qual è il rovescio della medaglia appunto no? abbiamo ben capito loro invece non hanno bisogno di riempire questi spazi questi buchi delle loro giornate rendendosi protagonisti di storie che neanche esistono e quindi seguono la follia del cervello di Zepp sì poi fatevi anche un po' una domanda perché qui parliamo di uno e ripeto potete proprio banalmente ma voi come fate a dire che volete c'è un minimo dubbio Zeppellini per interpsichiatrica Zeppellini truffe vi porta sul sito americano che è questo ve lo trovo così ve lo metto e insomma e lì vedete tutto se non vi fidate di noi potete tranquillamente fare le vostre verifiche ragazzi però molti di voi si lamentano dei toni delle cose se siete due ore potete anche abbandonare a fare altro voglio dire cioè questa è la dimostrazione veramente che non avete una mazza da fare che state seguendo noi perché state seguendo noi se vi scocciamo così tanto andate a fare un'altra roba voglio dire l'undici e un quarto cioè se così mi disturbiamo così si scoccia in generale dico Chiara non lo so è una forma di masochismo? come mai restate qui? è una forma di masochismo? questo è guardate non vi fidate di me andate a dare un'occhiata lì vedete un po' di chi parla ragazzi questi li ho falsificati io sono stata io ragazzi non è una roba che noi possiamo modificare giusto perché i complottisti non mancano mai insomma no? no ragazzi ma fate richiesta nel gruppo privato prima hanno detto che potete fare richiesta ovviamente non andate non andate a scocciare a offendere ti facciamo entrare ok chiedo ai ragazzi del gruppo di farlo entrare perché Pepito ha bisogno di aiuto ragazzi dobbiamo dargli una mano è giusto dargli una mano ok la perizia si si ma l'hanno sempre detto che allora lui è stato arrestato nel 2016 per una serie di truffe legate a una società che si chiamava Chateau Wines ok trovate tutto è tutto spiegato nel link che vi ho mandato c'è tutto praticamente che succede? lui aveva truffato dei soci cioè come aveva fatto? aveva creato questa falsa società farlocca aveva convinto delle persone manipolandola a investire dicendo che lui aveva fatto compraventa di vini preziosi italiani vini pregiati italiani dopodiché aveva accumulato circa un milione di dollari ed è sparito cioè quei soldi li ha presi da quel conto e li ha stornati su un conto dove aveva accesso solo lui questi l'hanno denunciato per una serie di truffe e reciclaggio di denaro ed è stato arrestato nel 2016 in Nevada dopodiché è stato prima in prigione insomma quasi un anno poi i suoi legali hanno chiesto la perizia psichiatrica perché si sono resi conto che era una persona disturbata insomma a quel punto il dottor Sarazen l'ha periziato per il giudice e il giudice in base alla perizia di Sarazen che lo definiva incapace di intendere di volere per un disturbo delirante un disturbo della personalità molto grave e megalomania e mania di persecuzione lo ha ritenuto infermo di mente cioè non imputabile perché era completamente psicotico ok dopodiché è stato mandato per circa un annetto in un manicomio giudiziario americano e all'esito di questa permanenza è stato scarcerato perché era stato raggiunto da un decreto di espulsione trovate tutto qua a quel punto lui anziché dare esecuzione dare esecuzione scusami scusami scusate ma questo è importante comunque anziché dare esecuzione se n'è se n'è andato e si è reso reperibile questo è quanto questa è una mamma che io rispetto pepito pepito dove sei pepito sei di tie pepito giusi campioni è la mamma di matteo iosso ciao giusi in circostanze diciamo molto tragiche in quanto tale è una mamma che rispettiamo e io mi sono messa nelle mani di quel signore povero il mio Matteo grazie per avermi aperto di più gli occhi quindi se adesso mi vuole denunciare lo faccia presenti la mia telefonata che ha capito a una madre che ha carpito a una madre e poi mi disse che se non avessi chiesto scusa pubblicamente mi avrebbe denunciato mi denunci pure ben a me e l'altro suo nome finto giusi giusi ti ringrazio davvero tanto perché io non volevo coinvolgerti come sai non volevo coinvolgerti perché a meno che non volessi farlo tu io non ti avrei mai forzato però ti ringrazio molto perché la tua testimonianza è veramente preziosa e come ti ho già detto privatamente te lo ribadisco io sono a tua disposizione qualunque cosa noi siamo qui ok pepito c'è da dire qualcosa non ho capito una cosa si adesso fanno finta di non vedere come non ho capito adesso la tua teoria che tu ti difendi la soluzione manca è stato prosciotto allora è o non è Mirko Zeppellini perché lo difendi loro sanno benissimo pepito e company bugameli e bla 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 sanno benissimo che Mirko Zeppellini è John Peschiera Jonathan Benabì e chi 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 più ne ha più ne mette lo sanno benissimo lo sanno benissimo tanto è vero che continuano a difendere Zeppellini ora se non è è M.T. Zeppellini che cazzo te ne frega se è stato prosciolto o meno cosa ti vuol dire a te se veramente Zeppellini è stato prosciolto certo che è stato prosciolto per infermità mentale ci mancherebbe altro che non venga prosciolto ma chi per favore chi se uno non è capace di intendere di volere ovviamente viene prosciolto anche se chiaramente in questo caso è stato internato ci fai nomi pepito il decreto di espulsione e lui si è sottratto che si è reso irreperibile da allora quindi dal 2018 quando poi crea John Peschiera perché John Peschiera compare per la prima volta nel settembre del 2018 poco dopo che dice che fa manicomio ma come non accetto che tu ti fai pepito ma ci dici chi sono questi DM Team che ve li hanno presentati chi visto che non è Peschiera allora chi è se è Peschiera non è Zeppellini Peschiera chi è chi è la persona che ha mentito a Giuse I Gampioni che ha mentito a Meri Coci che ha mentito a Santina Biondo che ha mentito a tutti gli altri chi è diteci chi è qual è il problema se non è lui perché non ci dite chi è eh perché l'investigatore segreto questo ha massacrato delle donne che hanno vissuto delle disgrazie terribili ma chi pepito chi ma sono scappati tutti ma siete veramente stupidi poi dice che uno diventa pazzo ma chi sono sono scappati tutti ma chi è chi è rimasto qui è il Melli e il Marazzita che sono arrivati adesso ma dai poi mi racconterò se mi ascoltate Giuse I noi ti ascoltiamo quando vuoi dove vuoi non c'è nessun problema ecco qua ecco qua qui c'è un'altra Santina Biondo non segue più MTM su Facebook no ma ma tutto a posto ok ma tutti gli altri posso dirti una cosa Giuse I non aver paura non la famiglia perché sicuramente molte delle problematiche che sono successe sono dovute proprio a questo pazzo a questo squirtà Giuse ti vorrei dire una cosa non aver paura delle minacce delle cose che ti arrivano non temere nessuno è una psicopata tranquilla non ti preoccupare qualunque situazione ti aiutiamo a gestirla noi abbiamo ottimi legali che ti possono supportare in qualunque situazione il peggio è passato perché il peggio era essere nelle loro mani la mazza non ha più niente a che fare con loro no no è rimasto forse a Yellow che ho visto un suo post la compagna del marito di Sarayello ci ha detto che li sta denunciando tutti quanti perché hanno continuato a diffamarli anche se quell'uomo ha deciso di difendersi ha ridunciato alla prescrizione ed è stato assolto e allora si sono anche rotti le scatole perché ne hanno dette di ogni per amore della verità la signorina ha detto che aveva visto nove minuti di video perché lei poteva vederli ha preso in giro le ragazzine ha fatto di tutto e anche loro stanno denunciando l'hanno scritto pubblicamente quindi dico ragazzi io veramente voglio sapere chi è che ancora è rimasto a parte voi adepti di Bugamelli che siete ormai gli unici che vanno dietro a questi squilibrati questo è squilibrato perché lui è squilibrato la Mary mi raccontava per fare la domanda mi raccontava che lui li minacciava o dicendo che aveva contatti con la camorra di Napoli e che quindi avrebbe mandato qualcuno per fargli del male nelle loro abitazioni o nelle loro attività lavorative oppure che avrebbe creato dei profili falsi per difamare i figli morti esatto sono le minacce che hanno fatto sostanzialmente poi ritornando indietro sempre di un anno un'altra delle accuse mosse era che noi minacciavamo queste famiglie cioè che avevamo minacciato quando mai la signora Campioni la signora Campioni ce lo dice perché è Giussi che sta scrivendo è Giussi non siamo noi è la signora Campioni la mamma di Matteo ok se andate nel profilo della Bugamelli le live con Matteo con la mamma di Matteo ci stanno non è che vi stiamo dicendo noi ora non c'ha bisogno la Giussi Campioni di venire qua stasera se non perché lo vuole fare si sente di farlo e l'hanno appena detto Simone è qua il nostro Edo davvero e lo può provare davanti a loro chiedono le prove però mezza prova a chiederla alla Bugamelli a Zeppellini no sì e l'accettano per fede noi vogliono prove da tutte le parti ma secondo voi queste madri perché se ne sono scappate che ci mettono la faccia noi siamo rimasti in silenzio veramente per un anno che abbiamo fatto finta di nulla non abbiamo denunciato le signore cioè non ho denunciato le signore perché avevo capito tutta la situazione ma guarda che mistificatore ma guarda che mistificatore adesso ti riconosco Pepe ho capito di sé cioè mamma mia sei proprio un bugiardo complessato del cavolo sei proprio un poveraccio un povero mentegato ci sono le prove un bugiardo compulsivo come i tuoi amici esattamente come loro ci sono le prove che più prova di questa cioè voi vi difendete la famiglia povera adesso che cosa dirà domani a Bugamelli che la campione ha fatto cosa semplicemente cosa semplicemente cosa che si è resa conto delle stronzate che gli propinavano dai finiamo ragazzi veramente parliamo di madri di ragazzi che sono morti in circostanze tragiche non è che parliamo di persone che si divertono a venire qui a fare delle affermazioni così dolorose queste sono le stesse madri che diceva Zeppellini che io prendevo in giro che io diffamavo che io molestavo ci siamo? ok? Giussi non vogliono crederci perché la verità fa male beh non credono a nulla poi quando gli dicono che sono idioti si offendono ma non è un insulto è una constatazione ragazzi perché non vi fate proprio due domande qui sono fatti ragazzi qui non so chiacchiere ripeto non abbiamo chiesto noi a queste persone di farsi avanti dov'è? Alessia Monagelli dov'è il signor trovato Mazza? e il padre di Sissi trovate la sua testimonianza da Francesca tutto falso no? in quel momento quel signore è stato così ma ora dov'è? dov'è? ma ve lo siete chiesti? dove sono le famiglie? qui a dire che che le sono state truffate sono qui dove sono le famiglie? a parte quell'ultima nuova eh che hanno trovato che ancora non sono neanche qui dove sono le famiglie? dove? dove? non hanno alcuna pietà umana hai ragione papà di Sissi ha fatto affermazioni anche molto gravi nei miei confronti che ho smentito chiaramente nella insomma pubblicamente perché pubblicamente certe accuse sempre tramite MTM sempre tramite la bugamella mi sono state fatte io avendo le prove per smentirlo ovviamente l'ho fatto perché non è neanche giusto che una professionista venga difamata infamata e le vengono attribuite condotte mai tenute credo che sia anche abbastanza normale difendersi quando si viene attaccato in maniera ingiusta infamante e caluniosa no? per cui papà di Sissi sa bene come la penso perché ci fu una riunione che per fortuna mia ed è stata prodotta in una denuncia è stata fatta in cui io restituiva la famiglia lo studio del fascicolo in base a quello che io avevo ravvisato ossia che a mio modo di vedere la dimensione suicidaria purtroppo non poteva essere esclusa e l'ho fatto con molta delicatezza davanti all'avvocato della famiglia davanti a tutti gli altri consulenti in una riunione che è stata registrata quindi io non ho nulla diciamo da recriminarmi perché la famiglia ha trovato mazza e io ho fatto una valutazione sulla scorta di quelle che sono le mie competenze dicendogli guardate io non posso sostenere che non vi fosse uno scenario suicidario perché alcune criticità purtroppo c'erano e tale tale restituzione ho fatto nelle debite sedi poi loro hanno agganciato il papà di Sissi raccontandogli un sacco di stupidaggini come loro solito purtroppo la famiglia disperata in qualche modo un po' perde lucidità se uno ti viene a raccontare a promettere che dimostrerà quello che tu speri tanto è evidente che la tentazione di cederla a quel tipo di losing ce l'hai poi dopo rinsavisci quando ti rendi conto che sono tutte puttanate ma un po' di tempo purtroppo sotto quel gioco psicologico ci rimani poi lui ti bombarda mail chilometriche telefonate lunghissime messaggi continui non ti lascia neanche ragionare il suo obiettivo anche in quel caso era semplicemente quello di danneggiare me loro della famiglia ha trovato massimo non ne fregava niente il problema era cercare un altro alleato manipolato per cercare di attaccare me questo era il punto è tutto così è tutto così scusate la salvatrice della patria Bugamelli che ha accusato San Santanico di andare contro le famiglie delle vittime adesso qui cosa stiamo facendo Giussi sei tu la mamma che mandava vocali promettendo di andare in tv se la mamma cambiava un'idea e ora ha chiesto di togliere la denuncia che ti sei presa ma la signora Giussi adesso non merita più rispetto una volta è Zeppellini perché questa cosa è vera nel senso che questi audio esistono ma li aveva soltanto Zeppellini esatto questi li aveva soltanto Zeppellini vedi che sei un imbecille Zeppellini sei un imbecille non ce la fai non ce la fai a non farti sgamare questa cosa devi sapere solo tu perché Giussi ti li ha mandati degli audio di quel tipo ma solo a te ma solo a te vedi che sei un imbecille un imbecille frustrato ossessionato psicotico sei questo non sei nient'altro vieni in Italia denunciami torna ma poi fai schifo proprio ciò mi fai proprio schifo ma ti rendi conto sei persone che mi hanno subito che è morto in circostanze tragiche dopo che le volevano bene grazie Giussi esatto li volevate bene però poi la Bugamelia ha detto no è cattiva la Giussi ed è finita la Giussi Giussi vabbè benvenuta nel club non ti preoccupare che è un club ben fornito questo è vedi che sei un imbecille Seppellini soltanto te ce l'avevi quegli audio mandati a te sì lo sappiamo che l'hai denunciata lo sappiamo non preoccupare sappiamo tutto ci sono arrivati documenti veramente interessanti ma quelli di se vieni in Italia quando farà la discovery del fascicolo devi venire Seppellini devi tornare in Italia dopo tanti anni ci sarà anche piacere ti viene a mangiare una carbonara come si vede come si deve qua a Roma torna in Italia Seppellini vieni torna in Italia devi tornare qui è sicuro non ti facciamo nulla No ma guarda io credo che tu sia in ottima forma ma in ottima forma perché gli anni di carcere sono parecchi quindi è bene che tu li affronti in salute ok in ottima forma proprio guarda non vediamo l'ora proprio vederti in maniera proprio splendida splendente nessuno ti torcerà un capello e non c'è mai stato il dubbio che questa vendisse problemi sono però ragazzi deve essere chiaro una cosa perché qui qualcuno vi ha detto questo è dissing no perché qui il problema non è tanto perché come vedete la dottoressa Bruzzone in televisione ogni volta noi mangiamo facciamo quello che vogliamo il vero problema è che nonostante continuiamo proprio l'altro giorno hanno agganciato un'altra famiglia di persone disperate perché hanno avuto una grave perdita quindi benché noi continuiamo a spiegarlo la gente ci cade lo stesso la signora Giussi che è qui adesso mandare un vocale da uno a uno non è diffamazione non c'è disperato la Giussi Campioni poteva mandare vocali a chi le pareva quante volte le pareva in tutte le situazioni che le pareva visto che c'è tutti questi avvocati che cambi come cambi forse più frequentemente di quanto cambi le mutande allora fatelo spiegare da loro che non c'è nessun reato in tutto questo che non puoi denunciare una beata fava diglielo posso denunciare qualcuno che manda un audio non come fai te che invece li diffonde ma se io mando un audio a Monica e un audio a Giovanni non c'è nulla di difamatorio in tutto questo quindi finiscila di minacciare la gente di querele totalmente fantasiose finiscila Giussi non ci casca ma quale denunciato ma che deve denunciare ma quello dagli Stati Uniti ma chi deve denunciare con quale carta di identità ma ancora non lo volete capire ma quale denunce ma quale denunce del notaio falso a nome di Jonathan Melamin vogliamo parlare di quella ma vale il notaio col con il per i John vogliamo parlare del notaio finto Anthony Long Anthony Long col timbro dell'UPS Anthony Long col timbro falso riferite questo andiamo chiamate facci chiamare Anthony Long dai facci chiamare Anthony Long dal notaio farlocco che dovrebbe avere autenticato l'identità di Jonathan poi ragazzi guarda una fantasia ha sempre gli stessi nomi guarda ragazzi io finché non mi arriva la denuncia io non ci credo ma ancora aspetti da un anno voi hanno detto eh hanno mostrato il documento ragazzi vi faccio un attimo un word non ti può denunciare Benamin non esiste non ti può denunciare Benamin già come si l'ho mandato io a Elle Jovina ora sono convinti che io sia Elle Jovina il timbrio di Amazon ti dico che c'è un documento tra quelli che abbiamo e che abbiamo allegato poi in diverse denunce dove lui produce una sorta di autenticazione falsa a nome di un notario falso che non esiste con un indirizzo falso un timbro falso che certifica l'esistenza reale di Jonathan Benamy che ovviamente non esiste con un documento falso allegato ovviamente indovinate un po' senza foto fantastico eh chi ci poteva credere ma chi ci poteva credere ma voi ma capito posso dire una cosa ma tu fai veramente schifo cioè qui c'è una donna che ha perso il figlio ed è stata minacciata ed insultata e noi siamo sicuri di tutti che ce la prendiamo perché lui può continuare a truffare con quell'altra che piange lacrime finte e voi lì che dite eh eh povera povera cioè ma veramente ma veramente ma questo ti fa scaldare ragazzi a me questo fa scaldare non ho problemi ok io non ho problemi può dirmi quello che vuole tanto lo smonti in tre minuti peraltro le prove delle minchiate che fa quindi è l'ultimo dei miei problemi il problema mio è quando te la prendi con gente che sta male che soffre cerchi di lucrare sulla loro sofferenza inventandoti cazzate di ogni genere e diventando aggressivo quando queste persone cominciano a fiutare che qualcosa non va minacciandole assillandole perseguitandole minacciandole di difamare i figli morti in circostanze tragiche ma esatto che vergogna il resto mi interessa delle mie vicende giudiziarie e delle denunce che faccio ma le gestirò avete le prove ma tu le portate le prove in procura ma noi le prove le abbiamo ma non le mettiamo qua non è quello il problema le prove ce le ho da morire le prove succulente non me le mettiamo qui queste donne queste madri queste famiglie ma cosa ma l'ha scritto Mary Koji l'ha scritto pubblicamente si sono ammazzati sono volati gli stracci per il telefono di Giulia il profilo di Giulia di Sabatino è controllato da M Team da Mirko Zeppellini ancora adesso ha ministrato la madre di creare di postare ma di che stai parlando c'è qui la madre di Matteo Iozzi che te lo sta dicendo ma che prove vuoi vado in America e te lo vado a pigliare magari ci potessi andare ma non ti preoccupare ma non ti preoccupare che prima o poi tutto porno ragazzi tutto porno tutti i gradi latitanti penso che trova sto corpo di fogna non sarà così difficile insomma ma va cellulare 1 cellulare 2 si è connesso quando era morto ma questo tutto uguale ma di che prove parlo ma che ne so fammi capi ma poi mica dobbiamo mettere tutto qui ma le prove ma perché non le chiedi aiutami che ha fatto un'ora e mezza un'ora e mezza di live a leggere i comunicati di M Team ma perché non le va a chiedere le prove perché io non le ho viste quale prove vuoi ma che prove vuoi ma sono dichiarazioni ma quelle prove vuoi fai una bella cosa siediti respira esatto brava Maracchini perché alla fine vedi i sostenitori della Bugamelli tribunale quando sarà il tuo turno ok ma si vede Chiara te lo dico io ma si vede che sono finte Chiara le cita pure male e basta non posso tornare in America ma dai ma dai ragazzi ma non ci fate perché l'unica roba che può farle è mostrare sul Twitch ma cosa ha mostrato alla fine cosa mostra ma cosa ha mostrato ma cosa mostra ma neanche le ha mostrate ma magari le ha mostrate ma la puntiamo in tre secondi ma cosa mostra non ha mostrato un capo ma quale prove ma tu apri diritto.it e cerca come si affidano i PM cioè va detto un sacco di minchiate vi tratta da ignoranti da deficienti e non tirare in mezzo Marazzitte e Guglielmelli perché loro non ci stanno li taglia in due minuti e gli fa dire quello che vuole li tratta come due scemi quando lei fa tutte le cose che legge anche su YouTube gliene dicono di ogni ragazzi ma veramente ma come state messi si sceglie il PM prende le denunce che vuole pilota le denunce che vanno al PM sì scusate posso avere quel PM piuttosto che altro ma dai ragazzi ma dai ma non c'è la petizione non l'abbiamo io non lo so poi l'hanno detto loro ma documento legale ma come documento legale te l'abbiamo messo là sono loro le loro prove ma quale prove più di questo cosa ti devo dare ma mica ti posso mettere la denuncia non è legale che gli documenti regali non è legale ragazzi quella roba che mostrano loro la possono fare solo gli amici vostri che si fanno la falta giurisprudenza perché quello che fanno se no innanzitutto è finto io la denuncia che ho fatto alla Bugamelli con il taglio ma quale documento in tribunale la faccio avrete 415 pis e allora farete copia del fascicolo spendendo anche un po' di soldini e andate esatto ma le avrete le prove Pepito e Michele le avrete le prove molto presto perché ora con la riforma cartabile la notifica vi arriva presto presto quindi vi arriverà una bella notifica di inizio indagine e voi sarete proprio contenti e poi risponderete no me l'ha detto MTM i super consulenti di MTM poi andate dall'avvocato e vi chiede no per per ritirare la documentazione mi firmi mi mandate qua altro facciamo prima di arrivare al processo facciamo 2500 euro 5000 se arriviamo se ti se ti faccio assolvere prima se poi andiamo a processo aumenta però poi non vi preoccupate vi difende Guiglialmelli poi non vi può difendere perché è implicato nella stessa nel suo reato perché poi non vi può difendere perché sarà indagato insieme a voi e questa è la storia però voi no allora Chiara ci puoi arrivare anche tu ci puoi arrivare anche tu che sono finte allora Chiara sì lo diciamo noi sai perché perché siccome noi sappiamo che non le abbiamo mai fatto nulla sappiamo benissimo che lei sa perfettamente di non essere assolutamente sotto minacce di non correre alcun pericolo dal nostro punto di vista non possono che essere finte è un problema è uno ragionamento detattivo ma quale paura le persone che hanno paura non vanno a provocare i loro stalk ma allora mi spieghi perché è un anno e mezzo che praticamente parla quasi sempre solo di me in tutte le live o quasi ti sembra normale che una vittima presunta Michele l'ho detto io poco fa l'ho mandato io a L Michele l'ho mandato io a L al contrario l'ho mandato io a L l'ho detto poco fa che una vittima terrorizzata non faccia altro che provocare stigare accusare falsamente calunniare il suo stalker è questo che funziona funziona così secondo voi pensate un po' che Zeppellini voleva convincere la signora Giussi Campioni che si trattava di omicidio volontario non colposo capite un po' pensate un po' ma si gliel'ha detto in tutte le lingue del mondo che era un omicidio volontario la live io l'ho vista nella live se ne sono dette in tutti i colori purtroppo manipolando Giussi facendo credere che loro avrebbero dimostrato chissà cosa che cosa hanno dimostrato che cosa che l'omicidio volontario vogliamo parlare vogliamo parlare dell'altro caso di Casini della signora che sono arrivati a farla denunciare gli amici del figlio per omissione di soccorso ragazzi cioè vi rendete conto quella donna è andata a denunciare due ragazzi perché non ha chiamato i soccorsi capite capite che che cosa Michele Maresca come la conosci tu se le scrivi penso che risponda anche a te la conosco sui social come come tutti penso che ti risponde se ti scrive vuoi che gli dica cosa qualcosa mi riferisco anche con Santanico che sarà andata a dormire che non la trovo però se volete conoscere qualcuno sui social non vuol dire conoscere per forza nella vita noi siamo qui per dire cosa non abbiamo fatto non abbiamo si deve provare l'accusa quello che dicono loro allora andate il mio obiettivo è provare quello che hanno fatto loro e ti assicuro che attualmente e poi in processo non avrò grossi problemi a provarlo perché me le forniscono tutti i giorni le evidenze quindi peraltro anche video quindi è un po' difficile dire no ma che motivo c'è poi perché è tutto provato che problema c'è quindi in quel caso avrete tutte le prove che vorrete quando ci sarà il 415 diglielo a Mirko Mirko c'hai il 415 io sei o mai a mezzo c'è la richiesta devi via giudizio fai fare un 415 Pepito ma me le mostri Pepito per favore tanto l'altro l'amichetto tuo te l'avrà detto che siete nei guai fino al collo a lui gli è arrivata la notifica quindi tu sei irreperibile ma c'è l'avvocato d'ufficio fatti dire chi è l'avvocato d'ufficio tanto queste persone ci chiaccheri sicuramente contatti l'avvocato d'ufficio e gli dici di farti un accesso al fascicolo gli mandi i soldi e l'avvocato fa le copie dopodiché ce l'hai prove che problema c'è Mirko così proviamo anche che tu sia il corrente del processo e per noi è proprio meraviglia totale che dici ci vai la fai questa telefonata all'avvocato d'ufficio oppure no o siamo ancora finto che non lo so no Pepito io l'ho guardato perché ho dovuto sistemare un po' di cose per la denuncia non ce ne sono prove se tu gentilmente mi dici il minuto mi contatti privatamente su facebook e mi dici questa è una prova io te lo spiego perché io veramente ragazzi non è che nessuno vi minaccia io personalmente il mio unico intento è aprire gli occhi a quanta più gente possibile per evitare di consegnare soldi a questo delinquente per me la bugamelli esiste o non esiste uguale mi dà fastidio quando accusa la gente alla cieca e vi prende per il culo però se non dà fastidio a voi fatti i vostri però se tu mi dici che ci sono le prove nel video io ti devo rispondere che l'ho guardato per fare la denuncia e non ci sono non ci sono queste prove quindi io voglio capire quali sono le prove perché voglio pensare che tu sia in buona fede e quindi tu adesso non possiamo annoiare in privato mi scrivi in privato e mi dici questa secondo me è una prova e io ti spiego perché non lo è poi ragazzi se tu hai le prove un avvocato serio e io sto facendo diciamo la pratica quando tu denunci e se qui c'è qualcuno che ha avuto dei problemi lo saprà la prima cosa che ti dice l'avvocato è non avere più contatti con la persona che hai denunciato non gli rispondere più non scrivere più perché il giudice se poi dimostri che tu continui ad averci a che fare potrebbe non crederti più questa è proprio la base no? detta proprio in maniera io ve l'ho detta alla spiccia e invece loro che fanno creano il dissing quindi se veramente ha denunciato dirà beh il giudice dirà beh da una cosa c'è lei da una parte c'è l'altra ma sai che c'è ammazzatevi tra di voi anche se fosse vero quello che dicono se loro hanno denunciato perché ogni giorno si svegliano con questo pensiero da diverso tempo quando da questa parte c'è stato il silenzio più totale ma chi è che li considera? cioè io veramente lei l'ho fatta più di un anno fa ora la rifaccio perché sti giorni sono uscite talmente in tutti i colori che ho detto vabbè sai che c'è un minimo di freno a certe fandonie a certe direi che sarebbe anche un po' il caso mettiamo un attimo il punto su alcune questioni poi chi ci ascolta ci ascolta non c'è nessun problema il resto ovviamente lo faremo nelle debite sedi come è giusto che sia ma il problema grosso sono le false accuse cioè uno può trovare una persona gradevole o meno su un gusti per l'amor di Dio va bene tutto ci mancherebbe il problema è quando una persona che dice di essere vittima in realtà perseguita difama calugna in maniera sistematica da oltre un anno delle persone che non la pensano proprio questo è il problema perché io non sapevo neanche chi fosse fino a dicembre dell'anno scorso quando mi ha accusato di aver cercato di ucciderla io non sapevo neanche chi fosse ok e avrei tranquillamente preferito continuare a noi chi fosse perché la mia vita credo non ne avrebbe avuto grosse diciamo limitazioni perché non è neanche una persona che ritengo interessante sotto nessun punto di vista adesso lo è dal punto di vista giudiziario perché è una persona che mi perseguita dall'ultima domanda e mezzo dichiaratamente dimostrabilmente documentalmente dopodiché ripeto lei dovrà provare le accuse quando dovrà difendersi se tornerà perché se non tornerà farà il processo da irreperibile saranno problemi suoi ci sarà il suo avvocato d'ufficio che farà il possibile con quello che avrà tutto qua esatto e vi chiudiamo con questo messaggio che la dice lunga no? perché questo poi alla fine che conta noi possiamo chiacchierare ma le persone che ci sono andate di mezzo sono queste qua e Giussi è sincera quando dice una cosa del genere non mi nascondo che ho voluto bene come una figlia Francesca era sincera e sono molto triste di questo dovete chiedere di parlarvi di questo non che di qua e di là perché se M.T.M. è una cosa e quindi la signora non ha più creduto a M.T.M. e ha diffamato M.T.M. la Bugamelli è un'altra no? e quindi se voleva bene a mamma Giussi dove è finita? chiedetele questo perché non vada a mamma Giussi? cosa ha fatto mamma Giussi alla Bugamelli? di minacciare la mamma Giussi di diffamare la mamma Giussi e di in qualche modo molestare la mamma Giussi dove sta? dov'è? se non c'è niente con M.T.M. se davvero M.T.M. non è Mirko Zeppellini perché non prendono le distanze da questo signore che molesta delle madri che hanno subito lutti gravissimi? perché è lui che le molesta ragazzi non siamo mai stati noi e questa stasera è davvero una prova inconfutabile insuperabile e ripeto Giussi e Mary non sono le uniche mamme che ci hanno contattato e siamo molto felici che l'abbiano fatto perché se la nostra attività ha contribuito a salvarla da certi scenari a noi non possiamo che esserne soddisfatti assolutamente ed è la cosa più importante il resto noi lo faremo nelle debite sedi io non credo di tornare su questo argomento anche se so benissimo e usciranno di tutti i colori anche nel prossimo periodo perché capirei dopo questa live lui sarà avvelenato ancora di più però il mio invito è sempre il solito Seppellini vieni in Italia esatto vieni il culo in Italia poi ne parliamo vieni qui mi denunci e ne parliamo davanti a un giudice non ce n'è problemi io non vedo l'ora ti ho difamato vieni in Italia dimostrami che ti ho difamato che tutto quello che sto dicendo non è vero che sei pericoloso e hai fatto del male a un sacco di gente non potevo non fare altro dovevo fermarti è un dovere morale e sono ben felice di averlo fatto bene ragazzi visto che capisci bene il napoletano ti dico solo una cosa che fai schifo e basta e beh c'ha tutti tutti gli avvocati di Napoli tutti gli avvocati di Napoli anche quello guarda per il resto ragazzi abbiamo dedicato tre ore non ci torneremo più ma loro perché loro sono qui sono qui sono identificati hanno una repidenza hanno una reperibilità e questi signori davanti a un magistrato sanno anche starci quindi immagino che non avranno difficoltà a spiegare ma pagheranno tutta sta gente qua pagherà che si basa su un reato dimostrabilmente peraltro grazie per avermi fornito le prove di quello che sto dicendo grazie mille perché anche la procura avrà molto più agio e velocità nel procedere quindi signori e signore direi che per stasera siamo qui Giusy grazie perché sei stata preziosa infatti grazie Giusy ci auguriamo di aver dato delle indicazioni magari con a volte toni un pochino più accesi ma perdonateci ma devo dirvi che questa campagna persecutoria obiettivamente sta cominciando un po' a infastidirci a me a preoccuparmi perché io veramente vivo guardandomi le spalle ma mamma mia questi questi da gente di questo livello qua quindi è chiaro che vivo un po' così ti sei risposto da solo cerchi la risposta cioè ti sei creato ti sei creato diciamo ti sei risposto da solo un problema serio guarda credimi chiedi aiuto tu non stai non stai bene fidati magari ce la fai ancora molto sincero voglio sapere come fai a dire che sono un pepito se scriviamo contemporaneamente sei problematico proprio peraltro facendo così stai dimostrando esattamente il contrario finiscila ripeto fatti aiutare tu non stai bene non stai bene mamma mia ok e ripeto se ci tieni a potermi denunciare ma non sono le minacce cioè uno ti dice che non stai bene perché fai queste cose ragazzi però ce l'hai anche te tu non stai bene tu hai bisogno di aiuto guarda che te lo sto dicendo seriamente Phoenix hai bisogno di aiuto non so chi tu sia ma hai bisogno di aiuto è da stupidi proprio ci mette la firma nella persecuzione della Bugamelli lui capite gli monta i video e ci mette il suo nome e poi condivide i video sui social capisci nel dubbio c'è ma manco per mia sorella lo farei ragazzi cercate tra gli psicologi della Liguria Roberta Bruzzone ritenete che mi trovate senza problemi giusto per rispondere al povero Pepito lo squilibrato che sostiene che io non sia abilitata per la psicologa più che più Pepito lo squilibrato secondo me è il nome corretto per te sei un squilibrato imbecille disinformato e decisamente malevolo quindi qui non è il posto per te però ti abbiamo tenuto qua perché alla fine ci hai fatto un po' compagnia dai ma sì ma perché almeno uno ci prova però ti qualifichi da solo no perché poi non puoi andare lì a dire eh non mi hanno risposto noi ci abbiamo risposto qui se fate la figura degli scemi perché cioè lo fate voi è abilitata la psicoterapia no l'ha detto in televisione sei cretino non è una diffamazione è una constatazione sei cretino sei cretino ho mai detto di essere psicoterapeuta io sono psicologa forense e clinica ho mai detto da qualche parte di essere abilitata alla psicoterapia non mi interessa proprio la psicoterapia non avrei neanche tempo quindi l'ho mai detto da qualche parte quindi che cosa vuol dire che cosa vuol dire sei abilitata certo che sono abilitata sono psicologa abilitata e faccio il mio lavoro da psicologa forense e clinica quindi cioè che cosa stai dicendo lo capisci che sei un povero imbecile sei più forte di te sei proprio lo devi far vedere al mondo che sei un povero imbecile c'è poco da fare ma ripeto non è un'offesa è una constatazione va vabbè ragazzi Samuel grazie anche a te ciao Samuel eh sì tutta la solidarietà la storia ti abbia tirato in mezzo perché non te lo meritavi e assolutamente da parte nostra massimo sostegno perché mi dispiace e la pioggia lo capiamo che la bugamana ti ha scatenato contro è veramente una roba che non sta nel cielo non in terra e mi auguro davvero che tu decida di denunciare perché ci sono tutti gli estremi te lo posso assicurare e lato nostro noi siamo a tua disposizione per testimoniare la gravità della campagna ma perché poi hanno messo gente hanno tirato gente a caso ma sì ma sicuramente ci puoi mettere come testimonia anche adesso assolutamente ragazzi niente allora direi che questa serata è andata bene così ragazzi fate entrare pepito nel gruppo privato ragazzi per favore ma lo volete rendere pubblico così la smettono rendetelo pubblico questo gruppo così la smettono ma perché può fare chi è serresta privato ce n'è che è nascosto sta sempre lì e entra e passa a parte che è tutto una partaccia perché sicuramente ci saranno che lei segue la Bugamelli e è voluta entrare per informarsi ma sicuro già c'erano dentro è un segreto ragazzi non pianifichiamo il prossimo attentato alle Tori Gemelle state tranquilli insomma sarete proprio sereni sereni su questo punto insomma ok va bene dai buon anno a tutti e grazie grazie Fenix sono basiti da quanto sei in Begile te invece però appena entrato appena entrato e già giudica tutto una farsa sinceramente non pensavamo che arrivassi a questo livello di imbecilità ed è un livello tale che ci preoccupa ecco tu sei uno di quelli che temo possa davvero arrivare a farmi del male sicuramente segnalerò proprio il tuo profilo perché ritengo che tu sia veramente squilibrato ok ciao ragazzi buona serata ciao 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 ciao